Buonasera, bentornati ancora una volta, come sempre io rido, io rido perché? Perché io, Francesco De Giume Lombardo, il vostro response report è preferito che ogni volta, ogni venerdì, alle 15.17, vi dai il benvenuto in questa trasmissione di approfondimento sulla scena competitiva di League of Legends e ovviamente sempre a casa sua, ma, ma è promesso che comunque entro agosto andrò, promesso che andrò, più che volentieri andrò dal vivo, ma perché rido, perché non solo io sono a casa, ma oggi sono quello trattato peggio, perché sono proprio quello messo a casa per i fatti suoi praticamente, perché in realtà lì c'è una festa in questo momento, perché non solo, come sempre ovviamente, ci sono Revi, il Vege e il Viscoe, come li ho definiti oggi i fantasmagorici, i compagni di viaggio all'interno di questa avventura che è appunto Studio League, che va sempre qui su Atleta Underscore TV, ma soprattutto oggi c'è un ospite, fantastico, d'eccezione, un Toscano che ormai trasferitosi nel nord della siccità, deve fare a meno dell'Arno che gli portava l'acqua senza problemi, adesso si è trasferito al nord, è il Po, guarda caso, acqua, non ne fa più, non ne ha più, a parte gli scherzi, ovviamente mi bocca al lupo a tutta la situazione, a tutti coloro che stanno vivendo, questa situazione drammatica nel nord, ma detto ciò ovviamente direi che possiamo, fatemela cambiare, dai cambiate queste inquadrature, perché li voglio vedere, li voglio vedere, eccoli! L'Ill e Truri! Questo cappello così? Io non ho parole. Ho deciso oggi che dovevo essere molto swag, quindi... Swag? Perché no? Io sono swag? Tu sei swag? Beh, quando metti il cappello sì, poi ci hai fatto vedere certe foto di quando eri giovane, mamma, 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 quanto scopava avesco quando era giovane? Non lo so, dovrebbe essere lui a dirci. Facciamo una cosa, Papazzi, c'è anche, se volete spendere i vostri punti canale con tanto di cappello, questa volta lo farò io, così arriverò. Bravo, giusto. Visto, con il cappellino qui, comprate dei cappellini di atleta sullo shopdiatleta.it slash shop. Non sono ancora in vendita. Non li comprate nemmeno, mi dispiace, I'm sorry. Però è stato riscattato il tanto di cappello, eh? Eh? È stato riscattato il tanto di cappello. Allora, scusami, eh. Non ti sento più, dogemmo un attimo. Sì, 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 lo so, lo so, lo so, tranquillo. Eccolo qua, gli entra. No, dogemmo, sei veramente un bastardo, veramente. Perché? Ho paura di quello che hai detto. La fama ha detto che sei uno stronzo. Ho detto gli entra. Perché devi fare... No, perché lei vi legge ogni volta, deve fare finta che io ti offenda le persone, o flammi le persone, eh? Vabbè, lo fai, eh. Quando si drogono le cuffie, capito? È una gag ormai, è questa la gag che abbiamo ormai. Popolo di Twitch, dovete sapere, perché qui vedete tre camere diverse, ma come potete ben comprendere, siamo tutte e tre dal solito posto. Esatto. Infatti, vedete, c'è la mano di viso. Una mano? Oddio, che stifo. Sposa anche te, un abbraccio, così avviene una mano a vedere. Sì, l'ha fatto a pezzi. Perfetto. Dovete capire che in questo momento io mi trovo qui negli studi di Studio League e vediamo qualcosa di pazzesco. Addirittura. Ci sono delle cose, ci sono dei prompt che gli voglio portare su a Milano solo per fare gli sketch. Addirittura. La barra americana la vuoi portare? Potrebbe essere interessante, lo sai. È molto utile. Entra in treno, tra l'altro, te la porti tranquillamente. Infatti io vado su in autobus con... Ah, vedi, ancora meglio. Ancora meglio. Ancora meglio. In tasca, la giri, tubo dopo tubo, l'hai fatto. Quindi allora, abbiamo detto, se tanto di cappello oggi lo faccio io, visto che sono l'ospite e ho preso il cappellino di atleta. Giusto. In parentesi, veramente, io ne voglio uno, quindi per favore aprite lo shop soon. che io voglio mettere i miei ricchi soldi dell'e-sport. La vera domanda, regia, se lo merita il cappello o il truino? No. Vediamo alla fine. Vediamo alla fine. Io ho già promesso qualche cosa, perché Dio Gemmo, raccontiamo. Cosa è successo questa settimana? Niente. Niente, che è successo? Che è successo? Vogliamo parlare di Proving Grounds, di Pichinaz? No. Vogliamo parlare... Non gli conviene, mi sa. Ma quanto sono belli questi Astralis? Ecco, ecco. Diciamo, niente, no. No, ma infatti che poi, giustamente, giustamente, Astralis, la stella, Samsung Morningstars, un'altra stella, quindi giustamente è lì che vuole andare a parare Visco. Sai qual è il problema? E chi siamo noi per deluderlo? Chi siamo noi per deluderlo? Sai qual è il problema, il più grosso dei problemi? Con chi giocano oggi gli Astralis? Visto, per concludere, la mia settimana di merda. Con i Panatic. Con i Panatic. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi vuoi ricordare che anche io dovrò soffrire oggi? Che bello. Non si è mai giocata. Non si è mai giocata. Allora, quindi, invece no, invece no. Allora, visto che noi siamo nel vivo, visto che abbiamo l'ospite per tutte e due le ore, non dobbiamo farci problemi. Tra l'altro vedo Etrurion in questo momento live anche su PG Sports LOL, probabilmente su un... Perché non avevo ancora staccato la diretta delle LCK e quindi dici, c'è qualcosa che non va. No, non sto scherzando, ovviamente è una replica. Etrurion, visto che siamo qua, ne approfittiamo subito. Te la chiedo così, a bruciapelo porti più sfiga agli Sport Empire di League of Legends o di Rainbow Six Siege? Di Rainbow Six Siege non gli ho portato sfortuna perché le avevo messi ultimi e sono arrivati al momento terzo quarti. Al momento. Ok, top 4 assicurati. Top 4 assicurati. Quelli di League of Legends... Ma secondo te sei tu o il fatto che sono stati il primo e unico team ad avere un proprio inno, ad aver fatto il video con la canzone per il proprio inno? Secondo me sei tu, Dujemo. Eh, vabbè. Che c'entro io? Che li ho messi in top 3? Sì, sì, sei tu. Potrebbe, potrebbe, effettivamente potrebbe. Vogliamo parlare del fatto che il team non sta funzionando da ormai troppo tempo? Cioè, il meme di Mazzari lo posso fare io ora in questo momento se volete. Sì? Perché è una cosa... Non va? Non vanno. Io sono venuto qui per due ore per poter flammare, quindi io flammerò tutti, anche atleta. Ho già proposto a atleta che li flammerò pesantemente. Ah, ma male! Sì, sì, pia di cappellino, nemica, quello è il problema. Tanto quando apri lo shop lo compri. Ok. Per quale motivo? Gli Sport Empire, iniziamo parlando di come non stanno giocando, proprio non giocano. Ok. Perché? È un roster che in teoria, a seconda di quello che immagino io, abbia un budget leggermente più alto, perché Lebron non lo prendi per 2 euro e una caravera. Non ha le cifre che si sono vociferate in offismo, perché c'è chi parlava, ma state pagando un jungler 7.000 euro? 7.000 euro nemmeno il Barcellona e esports quando aveva Lebron lo stesso spigio. Beh, va, tipo, 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 esatto. Però, un roster che, rispetto a quello dello Space Force, urlava playoff top 2, sta facendo, scusate per il francesismo, schifo, perché un roster del genere... Ma è oggettivo, credo, non penso che sia possibile. Un roster del genere non sta lavorando. Paradox e Sandano, secondo me, sta assumendo molto il fatto che Lebron lo vedono in bot, non lo so, mi pare che non lo vedono così spesso, o mi pare proprio che il mondo si è diventato, non più l'isola della top, è l'isola della bot, una cosa del genere, abbiano dei campioni che sono sempre, nella maggior parte dei casi, supportivi e non riescono a fare niente. Domanda a Kings of Evil, ma Nautilus è diventato l'unico campione per le sport? No, cioè, no, non prendi, muore! E Leona, allora, c'è Seraphim, c'è un mondo a sé stante. Paradox ha un solo campione. Basta! 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 Da uno split a due split che giocano così! E se io non capisco se è Aradox che vuole continuare a giocare Nautilus perché si sente più confidente, si sente più tutto quello che volete, o se è una scelta del conci in staff di continuare a giocare. E poi faccio parlare, blindano sempre la bottom lane, e quindi è normale che arriva a questo. Ora, faccio parlare uno che ha un computer e quindi ha dei dati analitici, e vabbè, lui ma perché tanto... Vabbè, perché deve parlare ogni tanto, quindi... E a te, Diojemmo, scusami, io so che sei il mio sport reporter non preferito. Cioè, ormai stavamo giocando tipo a Jumanji. Sì, Nautilus è l'ora di piccare, finché la seconda win... Cioè, devono per forza andare di gole dei picchi, se no cazzo non possono cambiare. In quella che hanno vinto, tra l'altro, Nautilus l'hanno giocato. Sì, sì, l'ha giocato Nautilus. Ah, ora mancano le uno, eh Dio. Dovevo fare le spunte sui picchi. Però davvero, cioè... Io parlo anche a voi che siete persone, diciamo, più fuori dal discorso. Però, sinceramente, anche l'Amzes e il Rubio, lo dirò in maniera molto diretta... Rubio è delusione totale. Rubio, avete presente quando hanno fatto il video in cui dicevano che dovevano pagare ancora i contributi a Raresh? Sì. Bene, in questo momento... Rubio sta prendendo i redditi di cittadinanza, allora, a questo caso. Sì, assolutamente sì. No, letteralmente, cioè, io sono qui oggi veramente col Flaming Corpo. Ma, facci pure, non c'è problema. Rubio è la più grande delusione che io abbia mai visto, cioè... Poi, lasciamo stare quello che è successo in questi ultimi giorni con Yucam, ma questa è un'altra storia. Sì, che poi... Dici, perché? Yucam, perché? Da Flamer a Flamer, vai! No, il fatto è che io, Rubio, sinceramente, ho smesso di guardarlo nell'istante in cui gli ho visto fare quella cosa con Imacco. Quando con Gwen... Quando gli hanno detto che, in teoria, prima di livello 6, Olaf doveva avere più difficoltà, invece, dopo nemmeno un minuto è morto solo Lane, top, Rubio. Nell'Uno, con Gwen, livello 6, Olaf, come quando vai al bar, come quando vai al bar e gli dici alla signorina per piacere un corretto alla Nutella e c'è la Gianduria dentro, invece, che era da Nutella. No, perché la Gianduria è più buona della Nutella. No, fa schifo. Qualitativamente, però. La Nutella è troppo forte. Civil War? Più forte dell'universo la Nutella. Civil War? Sì. Tu preferisci la Nutella o la Gianduria? La crema. Devo chiamare? Lei invece ha qualcosa... E poi, aspetta, arriva l'ultima cosa e poi chiaramente chiudiamo. L'Amzes non sa né di carne né di pesce, perché mi pare il mid laner più neutrale di questo mondo. Non fa né bene né male. E la cosa brutta è che in questo roster che sta andando così male, sta ancora peggio. Fa ancora peggio in questo caso. Poi, ripeto, sono mie idee personali, non mi ricordo il meme di Cassano, quindi non posso continuare. Io posso fare appunto la rete. Croze WR, non so come dirlo, ma grazie. Croze Wild Rift. Croze Wild Rift, grazie mille per il follow. Benvenuto e ci chiedeva se abbiamo già parlato del DDL e Esport che è stato proposto, sapere dove si possono vedere gli articoli. E... Phil MK24. Del DDL e Esport, faccio parlare di Ogemo perché sicuramente ne sa un po' di più. Degli articoli, intendi, riferenti al DDL o di quello che è stato proposto? Ah sì, diverso sul rubio o bi-like? Tu vuoi l'acqua? Penso il DDL in generale. Se ci fosse un po' di H&M, mi è piacerebbe. Credo, credo, credo. Comunque, comunque, prima di andare a parlare di quello, ricerchiamo di restare per il momento aggrappati al PG Nation. Se abbiamo iniziato, abbiamo lanciato tutto questo discorso per capire, insomma, qual è la situazione. Per quanto riguarda gli Esport Empire, io proprio non... Cioè, hanno giocato bene una volta ed è stato contro i GG Esports e hanno poi vinto. Che, tra l'altro, è stato, penso, la peggior partita dei GG Esports, mentre in tutte le altre partite dei GG Esports hanno invece mostrato qualcosa di interessante. Le hanno perso, ok? Ma hanno sempre messo in difficoltà gli Outplay, hanno messo in difficoltà gli stessi atleta, se non ricordo male, ma anche con... Tutte le squadre hanno giocato comunque abbastanza bene, tranne quell'unica partita in cui hanno fatto schifo e a vincere... Scusatemi, vogliamo salutare il Valletto, per favore. Salutiamo Nicolò. Ciao, ciao. Ciao Nicolò, grazie. Il Valletto che mi sta portando l'acqua perché ero troppo infuocato. Mio fratello è gentile, che gentile. Ha visto troppo flame e gli ha portato subito l'acqua. Fra parentesi... No. Comprate! No. Comprate anche la tazza di Atleta League, che non è in vendita. È un adesivo sopra la tazza, infatti. Quindi quella tazza non può andare in lavastoviglie, perché sennò... Esatto. Finché non lo dicevi, nessuno lo sapeva. Hai ragione, non si vede molto bene. Cioè, Giovannetti... Contro i match, Quartan, giusto, prima che Corchi... Però lì Corchi decidesse di vincere è anche colpa vostra. Cioè, se Corchi è arrivato a quel punto... Non è che c'è molto da fare. Però appunto gli Sports Empire proprio mi danno l'idea di quella squadra che non riesce a trovare la quadra. E la vedo totalmente spaccata in due se non in tre. Nel senso che io vedo il duo bulgaro, Lemzes e Lebron. Dall'altra parte della mappa ci sono Sandalo e Paradox. O Sandolas, come ormai si chiama, e Paradox. E dall'altra parte un Rubio che tanto perde in continuazione. Perché io immagino Lebron che con tutta la buona volontà ha una bottline che è sempre in difficoltà. Non perché sono più scarsi i giocatori, ma perché effettivamente se giocano sempre allo stesso modo dopo uno split e mezzo la gente saprà anche come giocarci. Anche perché non è nulla di innovativo. Ormai contro quel tipo di comp ci si può giocare tranquillamente. Giocano utility il più delle volte, questo volevo dirti. Scusa, giocano utility il più delle volte. Per chi da giochi l'utility se viene ignorato completamente in tutto l'early game. Esatto, uno gioca utility perché tu jungler, tu midlaner, vieni spesso giù e aiutiamo a prendere tutti quanti un vantaggio. Cioè aiutiamo a vicenda per andare a prendere tutti quanti un vantaggio. La botline che è, scusa, la toppline che è continua a subire da chiunque, da tutti e da chiunque. In midlane non ho capito che giocatore è l'Amzess perché non gli ho visto fare nulla di particolarmente interessante. Per dire le cose come stanno l'Amzess. L'Amzess, sì scusami, l'Amzess non sono un caster, si vede. Non sono nemmeno stato candidato a best caster dell'anno, quindi si sarà un po' dico. Potrebbe essere il tuo anno, se hanno nominato caster come Trulian posso nominare chiunque, eh? Ah, chiunque, certo. Cioè, allora, magari anche gli schiorrevi il Veggie, voglio dire, che loro ormai castano comunque il co-streaming, quindi anche loro. Anche Brizzi a questo punto caster dell'anno. Mi aspettavo un flimbo addirittura. Sì, anche io mi aspettavo un flimbo. Lui mi aspettavo, no, lui no, perché no, mi fa felice. Però ricordiamolo, io sono stato candidato, lui no. Lui no, no. Ma l'anno scorso lui non castava l'anno scorso, lui non castava. Però c'è, io mi immagino veramente lebron come nei cartoni animati in cui praticamente c'è una botte di acqua che inizia a perdere da un buco e uno gli mette una pezza. Poi inizia a perdere da un altro buco e lui cerca di mettere una pezza dall'altra parte e finisce le mani e i piedi da utilizzare per coprire quei buchi e continua a uscire acqua comunque da qualche altra parte. Voglio farvi cambiare discorso, perché sennò poi coniamo troppo gli eSport Empire. Fra parentesi, voglio salutare Gioannetti, del grande amore. Ricordati che quando torno su andiamo a mangiare una pizza insieme al ciclone. Oggi Gioannetti era bellissimo. Va bene, Gioannetti ti ho fatto una foto che sembravi nemmeno ti avessero rapito. Punto di domanda. Ma va bene. Ho flammato anche Gioannetti. Ho flammato anche Gioannetti. Questo casting in piedi a me non dispiace. Forse gli in piedi ci sono stati un po' diversamente. Ora lo dico qui. In quadratura andrebbe fatta un po' diversamente. Io lo so che dopo questa frase verrò licenziato. Attenzione. Io voglio tornare a castare in piedi. Voglio tornare con la telecamera in piedi. Bravo. Mi sentite? Mi avete licenziato. A posto. No, è un gusto personale naturalmente perché il cast seduto in piedi, quello varia a seconda anche di cosa... Eh ma tu ti puoi alzare quando la telecamera non è subito. Infatti quando la telecamera non mi vede sono in piedi. No, non sono d'accordo, non è un gusto personale. Cioè castare in piedi è meglio. Castare in piedi è un discorso. Io dico anche quando c'è la telecamera è bello stare in piedi perché è molto più dinamico in movimento. Però questo è il mio punto di vista personale naturalmente. Lo sanno quelli di PG lo sanno. Infatti Gabbo secondo me è più le volte che mi vuole mandare a Pisa che altro. Così via. Dicevo. No ma da questo punto di vista lo preferisco anch'io stare in piedi. A parte che è molto meglio e non ti schiacci il diaframma e respiri meglio. Esatto. 30 volte. Ma anche se io mi trovo meglio anche solamente nel gesticolare ad esempio. Cioè quando mi trovo in piedi mi trovo più a mio agio nel gesticolare. Infatti quando lui era l'Italian Esports Award era in piedi vero? Ah no eri seduto scusami di Ogem. Quando ho fatto? All'Italian Esports Award quando c'è stato il... Ah sì no infatti lì io avrei preferito in piedi sinceramente. Però quelle erano le indicazioni e... Ma se sta seduto. Mi devo adattare. Adesso sta seduto. Sta sempre seduto. E infatti secondo me lui non si alza mai. Ma mi piacerebbe alzarmi. Secondo me è due gioco non ha le gambe. Ma come te avvicinano le gambe. Come me fa. Può essere. Può essere. Ora arrivo a due cose. La prima. Se è vera la storia che ha scelto Lebron il top e il mid. Adesso è da afflamare Lebron. Fermo restando questo. Se la storia è questa. Allora ci sta. Seconda cosa. Così cambiamo anche squadra. Con che hanno vinto i Sport Empire? Scusa. Quei GG è. Vogliamo parlare del team più coin flip di questo mondo. Con Fatshield che letteralmente se martedì avesse fatto una delle sue solite performance. Era il peggior top player. Anzi non il peggior top player. Il peggior player del PGNuts. Ma oggi è cattivissimo. Che è successo? A livello statistico sto dicendo solo fattualità. Solo verità. Vero. Aspetta ma io. Amato a tutte e due le parti. Perfetto. Quindi. Ovunque bevo sono a posto. Porca. Ammo. Che senta. Parliamo dei GG di eSports. Vai. A voi. Guarda ma io dei GG di eSports sinceramente non saprei nemmeno cosa disti. Perché. Perché che dia è il contrario. Sì sì lo stavo facendo infatti. Così che vuole. Ma sempre che parla ma io voglio dire. Artan ma siete chiusi oggi. Ma insomma. Che comportazione è questa? Ma come è chiusi? Questi chiusi? Cioè veramente. Oh oh oh. Oh. Che è successo? In realtà non è Fats Shield. Quello con il KD è il più brutto del RPG. Ci siamo vicini eh. È Sandolas. 0-9. E tra i top laner? No. Subito dopo è Fats Shield. Aspetta. Ma Fens1 chi è? Chi era stato? Ah i mid laner degli ASports. Ehmpire. Eh sì. È vero. Fens. Vabbè quello non conta. No infatti non conta. No. Però. Su 8 partite. E qui poi ritorniamo sul discorso. 0.9 Sandolas. Uno dei KDA Fats Shield perché ha fatto una partita decente martedì. Vero. Però c'è poi subito dopo Paradox. Continuiamo sui Gigi eSports. Che meglio va. Infatti io. Cioè veramente. C'è sono tutti giù. Quelli degli Sport Empire e dei Gigi eSports. Solo Scar è quello che sta in mezzo. Cioè gli ultimi. Uno due tre. Quattro cinque sei sette otto nove DA. La bottom 10. Perché i DA. Sono tutti giocatori dei Gigi eSports. Dei Sports Empire e Scar. Tra l'altro inspiegabile. Perché in realtà Scar è stato. Facendo. Sta portando delle prestazioni. Sta buttando fuori delle prestazioni. Pazzesche. Sì ma è molto allegro a volte. È un'artista. Non è che è un'artista. Però giustamente lui. Ma che è. Fa vincere il team. Nel senso che. Fa delle prestazioni. Pazzesche. Che però non lo. Compensano. Ricompensano. Dal punto di vista del KDA. Perché. Magari si deve lanciare. Poi ci muore. Però intanto il suo team ha fatto ace. Quindi anche se lui è morto. Per ogni team fight. Ma dall'altra parte hanno fatto ace. Che gliene frega a lui di essere morto. O di avere un KDA del cavolo. Figurati. Soprattutto ho visto. Che ha migliorato tantissimo anche in lane. Cosa che all'inizio stava soffrendo. Nell'ultime giornate. Anche in corsia. Anche in lane. Si fa avvalere. E picchia tantissimo gli avversari. Così impari a non vedere il Proving Grounds. Vero. Ah chi è che non lo vede? Degemo? Ah. Sì sì. Cos'è? Ho scorso Split. Non hai visto il Proving Grounds. Scarra semplicemente era troppo. Troppo. No. L'ho visto. L'ho visto. L'ho visto scorso Split. Tantissima differenza in questo momento. Tra i giocatori che ci sono in Proving Grounds. E i giocatori che ci sono al PG Nationals. Quando uno potrebbe pensare. Ah ma magari i top del Pro. Potrebbero essere all'altezza dei bottom del PG. Ti dico che ancora non è così. C'è secondo me ancora un po' di fun. Quindi non era scontato che Scarra. Nonostante avesse fatto. Scarra è chiaramente avanti rispetto al Proving Grounds. Ma nei primi game. E evidentemente anche nei tryout. Suppongo. Perché Scarra non doveva nemmeno esserci. A questo PG Nationals. Lui anzi doveva essere il sub. Pensa. E forse sarebbe stato meglio. Pensa se fosse stato il sub degli Sport Empire. Gli Sport Empire avrebbero già sostituito Rubio con Scar. Almeno per provare a cambiare le cose. Sì. Secondo me l'avrebbero fatto tranquillamente. E la cosa che più fa tristezza fra virgolette. È il fatto che anche i GG Nisports hanno preso un ex Proving Grounds. E un ex NLC2 Second Division. Saddy e Victor. Saddy. All'università di sì che è abbastanza stabile. L'unica cosa che alcune volte fa delle plays che. Saddy per favore spiegami i salti in avanti di Ezzeria. Mamma mia. Perché l'abbiamo pagato. Gli adegli Ezzeria comunque. Col blink di Ezzeria. Gli adegli Ezzeria. E Victor che quando gioca bene lo guardi e dici perché nei GG Nisports e non è tipo faccio un esempio in una top 4 team. Quando gioca male dici ma perché non torna in Proving Grounds. E' proprio il discorso che Victor deve avere. No troppo incostante. E' troppo incostante. A 18 anni. Verissimo. Attenzione. Allora. Una cosa che voglio dire così almeno la gente capisce una cosa. Io vado così solti perché siamo in una diretta e tutto. Poi con i giocatori glielo dico. Cioè io sono diretto con i giocatori. Stai giocando male così. Poi quando siamo in diretta è normale che anch'io faccio un po' fra virgolette il personaggio. E utilizzo parole più dure o più dolci. Perché li vuoi bene. Perché voglio bene a tutti. Io sono la persona che più ama tutti nell'e-sport. Teddy Etrurian. Teddy Etrurian. E secondo me i GG Nisports hanno una sola fortuna. Hanno trovato lo split giusto in Spring. Perché io ho visto i Championship Points. E' la verità. Con questo roster vedendo i risultati. Vischio. Sì sì sì. Li vede pre-off? No. Al momento mi sa che non li vedi nemmeno al Proving Grounds. Scusate al Proving Grounds. Non li vedi nemmeno al Relegation. Non puoi. Avendo tutti quei punti. Quindi arrivando lì dici meno male che in Spring sono arrivati terzi. Almeno in Summer qualsiasi sia il risultato. O capita un ribaltamento di fronte. O se no non vanno in Relegation. E... Guarda considera che comunque quelli che in questo momento occupano le prime cinque posizioni. sono Atleta, Matchco, Outplayed, Axolotl e Cyberground. Samsung Monistar sta dietro. Esport Empire sta dietro. Perché anche se arriva a 6 ma come Championship Point è indietro. Cioè sono cinque dietro. Però di queste cinque effettivamente la top 4 possono farla solo in due. Perché... Cioè... Mi sembra difficile non vedere nemmeno... I Samsung si sono segnati nello 0-14. Samsung si sono segnati nello 0-14 e questo è fattuale. Comunque stanno facendo nello split. Ma i Monistar credo che abbiano bisogno necessariamente del... Devono necessariamente arrivare terzi. Addirittura terzi? Non proprio però arrivare terzi per essere quasi sicuri di salvarsi. Difficile. Comunque top 4. Top 4 minimo e... Difficilissimo. Il problema è che davanti a loro ci sono Axolotl e Cyberground. Che sono in questo momento davanti sia per punti ma anche davanti in classifica. E... Sì. Sembrano leggermente meglio. Ricordiamo devono arrivare almeno due posizioni sopportate. Fra Axolotl e due posizioni se sbaglio sopra eSportEmpire che in questo momento è possibile. Sì. E tornando a GG in eSports, così chiudo il discorso di GG in eSports, Ediwood anche lui è un mezzo coin flip con tutto il rispetto perché bel giocatore ma alcune volte con Bard fa delle belle performance con altre... È il Bard che mi troverà anche Dio per far capire la comparazione. Che lo sei dietro? Silver. Perfetto. E... Poi ho visto alcuni commenti e voglio rispondere. Ehm... E poi... Xeoner... Ok? Meglio di quello che ho visto di Lanzes, ma... Anche lui mi sa del giusto. Cioè... Non mi ha dato quella sensazione... Ci sta... Cioè ci sta provando ma... Non porta niente. Sì, no. Ma nessuno sta portando niente. Questo è il problema che io dico. Chiaramente non sta funzionando perché nessuno sta riuscendo effettivamente a mostrare qualcosa. E... E... Sembra strano, però sono quei... Eh... Sarà la maledizione del solito super team, eh... Di cui si parlava ogni volta in off-season e che poi quando arriva la season vera e propria si trasforma in un nulla di fatto. Però io ho anche avuto la possibilità, prima dell'inizio della stagione, di parlare con Kings of Evil per capire appunto come era andata l'off-season e che sensazione aveva. Ed erano tutti molto tranquilli perché c'era un ambiente veramente sereno. Eh sì, hanno fatto anche un bel bootcamp. Un ambiente sereno in cui tutto sembrava che stesse funzionando, che tutto si stesse incastrando alla perfezione. E invece così nulla di questo è stato. Zero. Zero. Ed è anche difficile, cioè... Anche se io venissi da te oggi, Trunia, e ti dicessi... Chi cambieresti? Cosa cambieresti? Forse Rubio, sì, ok, però... Cioè, non è che c'è... Cosa c'è fuori? O fai una scommessa... O provi a bruciare qualcuno. O vai a bruciare in Gino. No, 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 lo fate. No, non lo fate. Dirò solo una cosa. Vai. Erano i TSM o i CLG Che pocciavano Al tempo in NA G2 Esports Anche Vedete che fino alla fase di TSM e CLG Quindi Un attimo solo Che ho visto che è arrivato il mio momento No te parla tranquillo No 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 Ma infatti ci mancherebbe No ma tra l'altro i CLG in questo momento Poi sono pure i primi in classifica Quindi non è che No ma dico prima Ma al tempo i CLG facevano Hanno fatto molto schifo E lo split scorso i TSM hanno fatto Molto più schifo E anche quello prima E quello prima ancora E quello ancora prima Anche tu Perché non puntare Su questi ragazzi Fermo restando che secondo me Avere un anno di split Dalla possibilità letteralmente di puntare Su alcuni giocatori che non potevi puntare prima Mi discorso che lo split annuale non più E non più split split Divisi Uno Due Ragazzi Scar E dopo Gabbo Forse In questa settimana Il miglior top laner A livello di performance Abbiamo Victor Che quando gioca bene Tutti 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 lo amano Tutti Se è di Che ne è bene e male Comunque la sua performance Le sta facendo Se non gioca Ezra Se non gioca Ezra Ragazzi mi devi rischio Per aver messo i puntini su Y E' giusto Abbiamo Ragazzi come Tejon Come Henry C'è Cole C'è Vigil Fermo restando che come mid laner Se togli l'Amzes Ben o male Almeno tutti qualcosa fanno Quindi Non vedo tanti mid laner di Proving Grounds Che possono realmente dire Ero meglio realmente Di un'altra persona Trex Trex e Ford Diablo Lo so Guarda chi ha commentato Il primo torneo Pre Proving Grounds Ricordamelo Che è stato Un po' di rispetto C'è Anche qui Anche qui Il discorso è I mid laner Ora in questo momento Ce ne sono troppi E' la top lane Che manca Ci sono tanti di quei top lane Che alcune volte Li vedi ti domandi E' giungla Che ci fan Chi? E' anche giungla Anche jungle mancano assai Cioè Prendi la Proving Grounds E L'altra domanda che mi pongo Così lancio In quanto ti sfida Anche Atleta Academy Quanti italiani avete In Atleta Academy? Tre Abbiamo Impulse Avete Trex? No Trex Trex Impulse E sono tre E che ci fa L'Improving Grounds? Quando puntiamo Sui 5 italiani L'Improving Grounds? Allora è il discorso Degli Sport Empire Secondo me A 16 anni Il supporto Non sarà italiano Ma comunque A 16 anni Però Il discorso Degli Sport Empire Che loro in realtà Hanno già Sì hanno già Un loro corda Ciao Ozi benvenuto Già una Hotline Gioven Italiana E tutto quanto Su cui hanno puntato Quindi non gli si può Certo dire Ah ma poi C'è una squadra Che non puntate Quello che secondo me È successo È che non doveva succedere È che molto spesso Accade però anche troppo E che forse Si è ragionato Nel Ci è andata Quasi bene Così Nello Spring Split Che abbiamo quasi Fatto i playoff Facciamo subito L'upgrade E invece Secondo me Le cose Vanno un po' più costruite E se quello invece Fosse servito Da Presa di coscienza Cioè non è che Ci è andata bene Nello Spring Split Non è che abbiamo Fatto bene per caso Ma si sono convinti Di essere in grado Di No non è che per caso Ci mancherebbe No non è in quel senso Non è che ci è andata bene Per caso Ci è andata bene Quindi forse siamo A livello Di poterci permettere Qualcissima di più Facciamo subito L'upgrade Io invece sono Uno di quelle persone Che sarà perché Sono fifone Non lo so Però Io ci andrei un po' più piano Con questo tipo Di approcci Io Andrei Con più calma Costruirei In un tempo Più lungo Tutto quello che devo fare Magari cambio Uno o due giocatori Magari non li cambio Tutti e tre Perché Hanno cambiato Tutti e tre I giocatori Al di fuori Della botlane Magari non li cambio tutti Vado con calma Però senza andare A esagerare C'è un altro split Tranquillo Senza troppe pretese L'avrei fatto Perché in realtà In questo Stiamo vedendo Possiamo vedere La differenza Con gli Axelot Gli Axelot Sono È il primo split In assoluto In cui su di loro Non c'è Nessuna Pretesa Non c'è Nessuna Aspettativa Nessuno si Aspettava Niente da loro Io li avevo messi Ultimi Chiunque In tier list Anzi non erano Ultimi Era la tier list Contra bandieri Squalo 73 Ultimi quindi Non è detto Non è detto Potreva essere Ma comunque Sì Comunque Come se fossero Ultimi Devo sempre Votare contro Gli Axelot Inizialmente Votare per Gli Axelot Poi inizia a vincere Devo votare Contro Gli Axelot Nelle prediction Ecco Vedi Però appunto Cioè Veramente Io non Perché sono sereni Cioè lo giocano Senza che nessuno Gli abbia chiesto nulla Ed è il primo split In cui nessuno Gli sta chiedendo nulla Primo split In cui Raids finalmente Può fare Quello che pensa Sia giusto fare Senza nessuno Che gli va a dire niente Si è costruito lui Il team Senza nessuna pretesa Con un budget Questo è il budget Costruisci del team Questo è stato Sostanzialmente Il discorso E lui Con quel budget Si è costruito Il miglior team Che potesse costruirsi Con quel tipo Di disponibilità Gli Sports Empire Invece da subito Hanno montato Delle aspettative Per Voler andare Ancora più avanti Ancora più su Che lo capisco Però io sinceramente Propenderei invece Per un tipo di approccio Più Nel lungo periodo Tipo quello che hanno fatto I Samsung Morning Stars Prendendo Kazuki E poi cambiarlo Con Koenji Lì ci sono altre dinamiche Però aspetta Lì ci sono altre dinamiche Allora Andando a prendere il comunicato E io mi attaccherò a questo Fino alla morte Così cambiamo E parliamo anche dei Samsung Che voglio parlare Di Samsung Atleta Io non ho Io no A parte che Sixman roster È stato annunciato come tale Koenji è sempre stato nel roster Esatto Come un altro AD Carry Che hanno tra l'altro Perché mi pare che Come sub AD Carry Abbiano un bel AD Carry Aspetta aspetta Quindi vuoi farmi capire Che prima Li mettono sette nel roster E ora è diventato Un Sixman roster Così a caso Evidentemente sì Nella sua caso Attenzione Fermo restando che Potrebbe essere che Kazuki possa rientrare Poi ha fatto un tweet Con scritto Ho più tempo per giocare A Genshin Impact Quindi in questo caso Quello che c'è scritto Nel comunicato Non so quanto Kazuki Lo prenda su serie Esatto Tipo Probabilmente non rientrerà Secondo te rientrerà Vischio? No No Non rientrerà Anche se ieri ha giocato Molto bene Eh bravo Cioè l'altro giorno Koenji ha giocato Di un'ari Molto molto pulita Questo significa che lo cambiano Almeno così L'ultima volta è andata Se rientra Rientrerà verso La fine della stagione La fine dello split Cioè quando non serve E secondo voi Quando picchi Timo E secondo voi tre Samsung Dipende il tipo di percorso Che lui fa Internamente Quanto sono migliorati Come team In generale Io parlo in generale I Samsung Morningstar Perché Parliamoci chiaro Tra poco devo fare Fantasy Lc Visto che abbiamo Qui di Ojemo E quindi so cosa Non prendere Giusto? No scherzo Di Ojemo No 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 È giustissimo E Se giocano le 22 Scusate Tardi Siamo già di commenti C'è qualcosa Di veramente comico Però ecco Soprattutto te che sei da fuori Che sei un giornalista Sei un reporter Sei il nostro e-sport reporter No giornalista Si incazza Ma se te lo dici Aspetta Fammi lo dire I Samsung Morningstar Secondo te Quanto sono migliorati Non solo a livello di squadra Ma anche a livello di comunicazione? Allora Te lo dico sinceramente Questo tipo di comunicati Al di là Del fatto che uno ci voglia Credere o no Ok Ma questo tipo di comunicato Non fa contento nessuno No non è vero Questo tipo di comunicato È Quello che manca Nella professionalizzazione Della comunicazione Nel settore e-sports Quando accadono queste cose Che ripeto Che poi Uno ci voglia credere o no Che sia solo un comunicato di facciata Che non sia Esattamente quello che è successo Noi questo non lo sappiamo Possiamo affidarci a queste cose Oppure no C'è chi riesce a portare Fonti che dicono Che non è così Che è un altro modo Ok Ma questo succede In qualsiasi mondo dello sport Ragazzi Se un calciatore Se un calciatore In un'intervista post partita Dice Non mi faranno mai giocare Perché non mi si filano Durante gli allenamenti Quel calciatore Il campo Non lo vede mai più Esatto Basta Fermo restando Che ripeto Quando io ho detto di Kazuki Che ha detto Opta per giocare A Genshin Impact È perché lui ha scritto sul tweet Fermo restando Che i Samsung Potevano prendere E dire guarda Prossima settimana Che giochiamo contro Se faccio un esempio Contro Victor O esempio così per dire Visto che è già successo Contro Sonics Ho bisogno di un mid laner Più aggressivo Quindi prendiamo te Kazuki Il disco De Six Man Roster È stato utilizzato Anche ad alti livelli In altre occasioni Sì Sono dei risultati Che comunque Non sono mai andati bene Fermo restando questo Perché Ci hai scoperto Guma Yusi Con un Temer Roster Però con il Temer Roster È una cosa diversa Perché I T-Wars Avevano già Che dove Quello split Avrebbero preso Con l'idea del Si prende Lo mettiamo nel cestino Tanto sappiamo Che da qui Devono uscirne 5 E sono usciti 6 E sono andate mondiali In semifinale Quindi Non vado contro I Samsung Morning Stars Vado contro Il problema Che io dico E questa è una cosa Che dico tranquillamente Poi Samsung Nel senso Sono anche Una delle organizzazioni Che ha fatto L'annuncio Dei roster migliori Qui ho formato Anche Atleta Tra apparenzi Che Atleta Fece un comunicato Visto che avevano Tutti i giocatori qui E fece un comunicato Abbastanza semplice Sono di sbaglio Non c'erano ancora qui? Ecco Quindi nel senso Da Atleta Mi aspetto qualcosa Visto che c'è anche Ma è il dischio Che aveva spoilerato Tutto il roster Perché aveva pubblicato Il video Taggando anche Baloo Ah è vero Sì sì Però per dire Nel senso Io vedo cosa fa Atleta Con tutto il lavoro dietro E voglio E mi aspetto Da Atleta Un prodotto Che sia di qualità Anche su quella Fa su Twitter Esempio Quello che sta iniziando A fare ora su Twitter Per i Proving Grounds Con queste storie Con quello che avete fatto Anche di Pigenaz È una figata assurda C'è una narrativa Esatto Samsung Morningstars Ha fatto Un lavoro Di Storytelling Del roster Nuovo Che hanno fatto Che è una figata assurda Bellissimo Visto che so Quello che può fare Samsung E qui non vado contro Nessuno Vado contro in generale Poi Samsung Se mi vuole scrivere E mandarmi a quel paese Faccia pure Non ho problemi Mi aspetto da loro Sempre un qualcosa Di qualità Anche perché Samsung Io l'ho conosciuto Ai tempi di Overwatch Ai tempi di Overwatch Questi erano Un signor roster Siamo veramente Per parlare di Overwatch No no Chiudo qui No 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 Però ecco Samsung Invece come roster Te lo aspettavi meglio O peggio E quindi domando Anche voi due ragazzi Quali erano Ho capito Come roster Come roster I roster di Samsung Ah come roster Quello nuovo Ok Secondo me Come roster Vai 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 tu Che poi non ti facciamo mai parlare Sicuramente Il fatto di aver preso una pausa Deve parlare Si ti assicuri? No Non sempre A fasi alterne Vai Puoi parlare adesso Ti ho dato Grazie Di solito Di solito parlo Di ultimi 5 minuti Secondo me Il fatto di aver preso La grande pausa Dallo spring Anche se avessero avuto Lo stesso identico roster Avrebbero performato meglio E Con i cambi Con quello che hanno fatto Io avrei detto Boh Secondo me Vanno tipo 2-12 Io sono un grande fan Del loro supporto Mi piace tantissimo Quindi meglio Sicuramente è meglio Dello spring Perché peggio Non ci può andare Pall'amor di dio Però Puoi dire Fra l'altra volta 0-14 Secondo me no Secondo me Non è impossibile Fra Ha gomitato Nelle gengive Però Cioè Sicuramente Non tanto meglio Non tanto meglio Quindi Basso Secondo me Ancora il livello Oltre a Cipsy Che adori Io adoro Cipsy E adoro La voglia Che E le palle Che ha messo in campo Counter Dicendo È l'ultimo split Che mi faccio Counter è migliorato È vero Si è visto proprio Counter non è che è migliorato Non è migliorato Ragazzi Sta mettendo tutto se stesso Counter Sempre essere tornato Quello che vedevi Qualche split fa Che giocava veramente Molto bene Mi sono spesso Mi ha migliorato Rispetto Allo scorso split Ha giocato Cioè sta giocando Sicuramente è meglio Però c'è anche da dire Una cosa Che non è da ignorare Il suo main pick È in meta Cioè Twitch È Giocabile Questa cosa ragazzi Non è da ignorare Quindi C'è sicuramente Più rispetto In fase di draft Da parte degli avversari C'è sicuramente La possibilità Di utilizzare i twitch E poi tra l'altro Twitch Ti permette anche un po' Anche di flexare Altra di care Che sempre Possiamo anche vedere Zeri mid Non è andata bene Però può succedere Si può fare C'è tutto un meta dietro Al pick di twitch Che lo aiuta In poco Dice che non è vero Quello che dici tu No la zeri mid Di coing Perché quella di È stata un pochino Disgusting Not gonna lie Mi piace Not gonna lie È la parola Che utilizzo molto spesso Not gonna lie Invece te Deu Che mi racconti Guarda per quanto riguarda il roster Anche si Ogni volta Ci si nascono dietro I casini Che succedono Intorno Perché quella volta È successo Quindi abbiamo voluto Fare veloce Il team L'abbiamo costruito In due ore Poi è partito il torneo Cazzi e tuoi Cazzi e tuoi Ma poi Anche noi abbiamo I nostri cazzi Cioè non è che Sono tu No ci mancherebbe 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 A programmare E anche Ma le cose Poi va a me Cioè Quello che noi poi vediamo Durante lo split Ovviamente in gran parte Frutto di quello che è successo In off season Sì Quanto tu sei riuscito A lavorare bene Durante lo season Certo Se durante lo season Tu Roster Perdi due membri Un membro Tre membri Quelli che sono Perché succede Perché arriva Un'altra squadra Perché poi Dipende anche Se tu li hai già Fatto firmare Il contratto Se il contratto Per il momento C'è sulla fiducia Appena chiudi tutto Perché ci sono anche I giocatori Ti dicono Sì ok Vengo con te Ma prima Di firmare Voglio vedere Tutto il roster Completo Nel frattempo Magari Gli arriva Una proposta Irrinunciabile Da un team Anche una seconda Divisione Che può essere Franceso Spagnola O Dalle NLC E ti dicono Scusami Ma ci hai messo Troppo tempo A chiudere il roster E farmelo vedere Per cui Decido di andare Da un'altra parte Con tutto il rispetto Parlando Questa è una cosa Che dico molto Anche ai ragazzi Di Rainbow Six Siege Perché molti Si lamentano Dei contratti E qui posso Fare anche Coi roster Firmare Se ti dici di no Vai subito Con un altro Giocatore Molto prima Ma infatti Anche io farei Questo discorso Quella è Un'ingenuità Che arriva al momento Da parte Di chi sta indietro Al discorso roster Perfetto Perché i giocatori Pretendono professionalità Ok Anche le squadre Devono pretendere Professionalità Come giusto Se io sono interessato Un giocatore E lo voglio Nel mio team Io lo contatto Dico senti Che fa con il No ma prima Voglio vedere il roster Senti La nostra intenzione È questa Non sappiamo se Quindi se vuoi venire Firmi oggi Perché noi qualcuno Cioè dobbiamo iniziare A bloccare la gente Vieni Sì No No Arrivederci Grazie Soprattutto pensando Anche al fatto Che ripetiamo Qui stiamo parlando Dello spring Lo famoso 014 Uperfect Split E tutto il resto Ora invece Il roster Sembra qualcosa Di più sensato Trap È lì da giorno 1 E io Per fare un esempio Molto stupido Ho preferito Centomila volte Questo comunicato Che anche se era Di facciata Andava bene Rispetto al fumetto Che letteralmente Quando l'ho letto Ho detto È Molto Ammetto Che anche io Non sono stato Un fenomeno È stato Molto Perché dipende Cosa devi raccontare Se tu devi fare il fumetto Sul raccontare Cosa succede Durante la settimana Le partite Come ti stai prendendo Le partite Ci sta benissimo Quando però Devi andare a comunicare Delle cose più ufficiali Più istituzionali Ecco la parola giusta È delle cose Delle scelte più istituzionali Il fumetto Non è il medium istituzionale Corretto Per poter fare Comunicazione di questo tipo E le fai con un comunicato Che poi sia un comunicato Di facciata Che poi sia un comunicato Che non è vero Può essere quello che Ognuno può pensare Quello che vuole E' stato di fatto Che quello è lo strumento Da utilizzare Chi era il mid laner Dei fanatic Nemesis Stessa cosa Ti ricordi Nemesis Tirò fuori un casino Da fare schifo Rispetto a tutto quello Che è successo In fanatic Fermo restando Poi fanatic Disse Noi abbiamo fatto Queste scelte Questo è il cambio roster Festa finita Quindi Anche perché vai a tutelare Pure il giocatore Con un comunicato del genere Cioè E tu Puoi crederci o meno Su quello che è successo A kazuki Intanto i money stars Lo hanno anche tutelato Da questo punto di vista Perché lo hanno detto E' un pezzo di merda Ci è infamato E quindi noi lo buttiamo fuori Stiamo facendo delle scelte Meglio fare un percorso di crescita Bla 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 Così anche kazuki E' tutelato Se lui Se lui vuole continuare a giocare Un'altra squadra potrebbe essere Poi interessata Se uno sa che funziona In un certo modo Ora arriva il momento Sentiamo Posso avere per favore Il trofeo Che lo devo riportare a casa Dopo l'ultima settimana Di Piginaz E di Proving Grants Per favore Posso? Grazie mille Oh tre Mica quattro voglio dire Occhio che si stacca la N Allora Questo lo riporta a casa Popolo di atleta Perché sappiate che Dopo l'ultima week Di Proving Grants E di Piginaz Ho deciso Io di mia Libera iniziativa Che non se lo meritano più Perché Dopo aver Un team Con tutti i rispetto Un roster creato In Proving Grants Per essere ad alto livello Contro i P11 Prende e perde Un roster Che Hai perso Hai capito Un roster Che prende E Impiginaz De fare molto bene Contro un team In cui dovrebbero vincere Prendono e perdono Hanno perso anche i Maci Però i Maci Hanno fatto 0-6 In coso In play-ins Di Di un master Quindi Da loro mi aspetto questo Quindi questo trofeo Non ho fatto 0-6 Ho fatto 0-6 Maci 2-4 Ah è vero Voi hai fatto 1-5 Scusami Però anche voi Non vi siete qualificati Come loro Comunque Visto Anzi Fermo restando questo Questo trofeo Lo prendo io Me lo porto a casa Ed è stato un piacere Perché parliamo Degli atleti Della loro settimana Perché Sinceramente Esatto Anche lo scorso split Comunque con i P11 Un game L'abbiamo trollato È vero Allora questo Non è che me lo porto a casa Lo porto a Diogemo No Perché se tu perdi Con i P11 Poi finisci per vincere Lo split È tutto Sì è tutto Possiamo Non toccare Non toccare Non toccare Si stacca Aspetta Vediamo se Ce la siamo dovuto scrivere Noi National Questa N qua Che vedete qua Diogemo Parliamo di questi atleta Mamma mia Io Questa settimana Doveva essere Bellissimo Io Me l'ho immaginata Esatto Voglio il parere Di Allora Che lui ha guardato La partita La castata E tutto quanto Che atleta Io mi sono alzato Lunedì Ho detto Tra un po' Tra un po' Si inizia Nuova settimana Di ProGro Nuova settimana Di PG Sono bello carico Vinciamolo Lo sento Andiamo 2-0 Al PG Questa settimana Ce la possiamo fare E poi Poi venerdì Viene Trurian E andiamo tutti Al Gigi A bere A mangiare Come gli animali Abbiamo preso Il cazzo al PG E il Gigi Hanno chiuso il bar E chiamato tutto il covid Voglio morire E Proving Grounds E anche Proving Grounds E io veramente Questo è un disastro Doveva essere Una settimana bellissima È stato un disastro Fermo restando Che qui Lascio il lato GG Perché comunque A Roma ci sono Tanti locali A disposizione Ho capito Ma io volevo Conoscere Artan Su squadre A fare amicizia Cioè Stai a Roma Ci vuole Basta prendere il telefono E chiamare Lui non esce È un po' Come con i Samsung Monist Basta chiamare i giocatori E dire giocate Ma lui se non ha la scusa Non esce Roma è una città Troppo grande per lui Non è abituato Altro giorno Ho fatto vedere A visco Quanto è grande Ruttigliano Mi ha chiesto Più volte Se fosse vero Allora Parliamo di attuno Mentre chilometri Tu hai detto Un po' come me Con le variste Esatto Allora Torniamo a un discorso Atleta quindi Che sta facendo Che ha avuto una settimana Un po' me Come mai Madonna mia Allora Secondo me La partita contro il Samsung È stata completamente Orribile L'hai messa sotto gamba Sono andati lì Con la testa Vabbè ma sì Abbiamo sbagliato Draft Abbiamo sbagliato anche Gameplay Gameplay di test E draft Tutto Se sbagli la draft Però non è questione Di andarci sotto gamba Secondo me ci sono andati Anni sotto gamba Secondo me Questi e tre Sono No 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 Infatti però sotto gamba Ci va in game Perché sono i giocatori Da prenderla sotto Se sbagli la draft È un altro tipo di discorso Cioè è un altro Tipo di problema Che stavi dicendo Che guardi Stai guardando i messaggi Perché Mi dice 84 numeri Da 1,90 Non 1,90 Perché siccome Questa Li hai sbagliato tutti Questa settimana Se li gioca Allora se gli dice gli altri Lui se li gioca Ragazzi però se spiegate Le battute a Revy Poi la firma Sono più divertenti Comunque qua stiamo parlando Di game contro i Samsung Quando prima c'è stato Un game contro i Cyberground Che era il famoso Match of the week In cui i Cyberground Non sono neanche scesi in campo Ma vogliamo veramente Parare di Cyberground Di quanto realmente Quando giocano con le grandi Sembra quasi alcune volte Di vedere un tabarelli Che non abbia nemmeno Le mani sulla tastiera Non solo lui Tante persone Sì Perché per me Quella partita Per esempio È stata completamente Ce ne l'abbiamo stompata No ma completamente Grifata in draft Per andare a togliere Gwen Per andare a togliere Koeus Koeus Ogni tanto Ha le sue partite Come i suoi twist Sì certo In cui deve prendere Non essere veramente Fanno Sì ma guardaci un attimo L'hai fatto Yumi First pick E tu hai già lasciato Yumi Ci sono open Zero Twitch C'è open tutto quello che vuoi Corchi Corchi R1 E risposta Yumi E come R2 Cosa avevano preso Se ti ricordi Allora hanno preso Corchi e Perché se prendi tipo Corchi e Twitch Uno dice ok va bene Hai scelto comunque Non ho preso Twitch Ma potevano prendere Singed Ad esempio Singed però Secondo me un pick Molto più particolare Che solo pochi possono giocare Lo so Però Cioè Per rendere più spicy Il PG Nationals Le cose Una volta che diranno Hanno preso Yumi Allora sai che Vai a prendere Singed No? Aspetta che ora vediamo anche La draft Com'era andata Ah la lavora anche tu Tu non lo sapevo Cosa? No niente Commenta anche io Sì sì Commenta anche il PGNuts a volte Ok Ho già perso A volte A volte commento pure io Il PGNuts Sì Se mi visto coinvolta Qualche parte Perché mi Mi diverto male a commentare Allora Atleta Cyberground Senna Gwen Più putto del mondo In questo momento Bravo Lee Sin è un campione Che è il campione Orribile Ma che stanno L'hanno provato Cioè hanno provato a giocare L'ho pure di T1 L'altro giorno Quando hanno perso La loro prima partita Dopo 24 E hanno perso malissimo È giusto così Non esiste più Lee Sin In questo momento Non puoi giocare Non puoi giocare Non puoi giocare Ancora Lee Sin Lee Sin è forte Solo in una sola condizione Secondo me Giocato da mani coreane Quando sei sicuro Che è il quindicesimo minuto Più di game Ma in questo momento Non è un meta In cui te lo puoi essere sicuro No Non lo so E' quello il problema E' quello il problema Se io gioco 5 Challenger Contro 5 Iron Posso giocare Lee Sin Prendo Lee Sin Giustissimo Certo A questo punto Prendi Viego Fai lo stesso È meglio Infatti Lo so Però nel senso Io dico Se vuoi prendere Lee Sin L'idea è quella Vai indietro Gocciolino Prima che fatti lo scambio Così vediamo anche le informazioni Akali R5 Azir Akali Akali R5 Akali ha senso Counterpicti Gnar Hai l'R5 Rispondi a Gnar Vuoi Il discorso è che Hai una lane forte In Lucian Nami Secondo me qui Il momento veramente brutto Secondo me Ripeto È Lee Sin Avessi preso Un altro jungle Fino a Lucian Nami corchi Hai preso una botlane strong È un mid laner Che può fare quello che vuole Tanto deve solamente farmare Anche rimanere 0-0-0 Farma Poi arriva e ti shotta A un certo punto della partita Quindi va benissimo I ban Perché volevo vedere Perché i ban Non c'è Non c'è Viego bannato No No C'è ignorato E hanno già preso Vukong Vigo Tra l'altro Una classica risposta Vukong Sì Infatti Quindi Sì secondo me Qui Coeus Ha avuto Una delle sue draft C'è Zao Che è tornato Che può essere giocato Ancora Zao Hai bisogno di quel tipo Di danno Ma poi Secondo me Scusatemi Anche Akali Per quanto possa essere Una buona risposta A Gnar Non è contestualizzata Bene Nella composizione Di No È che stai giocando Contro Gab No perché No Flamma Anche se poi Di Akali Ok giochi Giochi da buona Contro Gnar E poi in teamfight Come fai Non puoi giocare Grazie Ho letto che si difende La mia coppa Che andrà via Non puoi giocare Non puoi assolutamente giocare Perché se noi Hardingaggiamo Facciamo qualcosa Li tiriamo dritto Non possono fare nulla Korki Korki non può rispondere Lucia non può rispondere Nami non può rispondere Lissi non minion Akali che fa Li guarda Mentre in shroud Cioè Akali è solo Buona Nella fase di corsia Dopo Una volta raggiunto Il mid game Non possono In 5 non possono giocare Aspetta Ora stavo notando Anche un'altra cosa Zeri Che è un campione Che con tutto il rispetto È come un po' Korki La fai farmare Arriva il terzo oggetto E poi Se la fai a P O a D Comunque con le scintille Con la W Prende e distrugge La composizione Visto che dall'altra parte Di veri tank C'è Gnarly in forma mega Ma c'è Yumi E Wukong C'è Yumi Zeri Yumi L'unica cosa Che puoi fare Qua è Quando vedi Yumi Hard engage Quando vedi Yumi Dici Devo prendere 0 Twitch Questo Per forza Però Ecco Gli atleta Secondo me Vuoi anche un po' La sfortuna Per quello che è successo Comunque avendo fatto Anche comunicato Posso essere chiaro Con il discorso Covid e tutto Secondo me Però quest'anno Sia atleta Che match Questo split Anzi Stanno giocando Un po' Più con Il fran a mano Non so se Hanno avuto Troppa paura Di quello che è successo In New Master Perché in New Master Hanno tutti e due team Lo dico tranquillamente Preso Dei colpi in testa Belli pesanti Oppure Secondo me È proprio un discorso Di vogliamo provare A Prima nascondere le cose Perché sanno Che la finale Teoricamente È fra loro due È la mia unica Pensiero Poi arriverai Match Porca troia Fammi toccare Mamma mia Vabbè C'è da dire C'è da dire Che siamo I due team Più forti Devo flammare Perché c'è un giocatore Che sta underperformando Secondo me Ma questa È un'altra storia Ma anche lo scorso split Avevano un giocatore Che stava underperformando Che poi è underperformato Comunque sempre Chi? Kerberos Io parlavo di Click Lo scorso split Click è vero È vero Diogemo Aiutami tu Chi era il peggior giocatore Dei match Con lo scorso split Secondo me è click Concordo con visco Perché abbiamo già avuto Questa Per fuori Diogemo Aiutami Chi è il peggior? A me non sono mai piaciuti Né Kerberos Né SOF Sinceramente Grazie Vedete le persone intelligenti Vengono dalla Sicilia Grazie Non mi sono mai piaciuto Non hanno mai fatto niente Di particolarmente Pazzesco Era Ho Ho Che tirava il carretto Lo scorso split Ragazzi Io non sto dicendo Con Click e Rares Che ovviamente Riuscivano a dare loro Quello che hai detto tu È underperformato Underperformato Assolutamente Kerberos non giocava Molte partite non le giocava Le intavole Le giocava dritto Click rispetto alla sua media A un certo punto Rispetto alla sua media Click ha giocato molto A un certo punto A un certo punto Io mi veniva in mente Di dire che Kerberos Faceva l'intenzione Di Debaus Perché quello che faceva lui Era prendere quattro persone Loro andavano a prendere Mi sembra proprio Fu la partita contro i CGG Che arrivarono in quattro Su Kerberos Che era 1-6 Per farvi capire E gli altri Andavano a fare il Baron Esatto Così Per sport E altri DeMatsko E quindi vinsero la partita Lì poi anche al Come si chiama Backdoor Di Hoho Con Veigar Kerberos in finale Non è stato Kerberos a underperformare È stato Gabbo Che diciamo Che ha srotolato Con tutto il rispetto Gabbo ha fatto La signora partita E sono d'accordo con voi Ma Kerberos Non è Un giocatore Che ha giocato Il Pigeonazzo No certo Poi possiamo dare Tutte le ragioni del mondo Anche se E non stiamo dicendo Che è entato E che proprio Non l'ha giocato Non l'ha giocato Era lì Gabbo ha fatto La signora partita E dall'altra parte C'era un giocatore Che letteralmente Se mettevi qualsiasi altro Top laner Che non fosse Sky In quella finale Avrebbe fatto meglio Di Kerberos Probabilmente sì Poi Poi Ora Io Io aspetto il momento bello Il momento bello È quando potrò parlare Di una persona Perché ho Il mio piccolo cuoricino Si è spezzato Quando ho visto Una settimana di Pigeonaz Ma parlare quando vuoi Di chi vuoi No 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 E lo lascio come Piatto finale Ma è così gustoso La formazione Fantasy LC Come piatto finale Ma come piatto Ah poi vi devo dire Un'altra cosa Un programma Super segreto Che dovrò dire Anche a Dio Gemmo Perché ho anche Un annuncio da fare Ma non lo farò Qui in Studio League Dobbiamo spegnere Delle camere Microfoni Dopo 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 Bene tutto Si spose Donne sono single Se mi volete Sono a disposizione Via Ora lo dico a tutte Almeno così Siamo sicuri No scherzi a parte CGG Bel roster Però comunque Stava facendo un buono Split stranamente Rispetto a quello che Ti giuro Su mia madre Gioannetti Quando ho visto Le pride Moth Pride Tutte le cose Sul client Io la barba E tu no Io ho pensato Cazzo Graves E Trurian E TF E Gioannetti Siete veramente Loro due Un giorno Ma semplicemente Per questione Di barba Sì sì Queste Chi ha la barba E chi no Cioè Quella la distinzione Semplicemente E io Pi A me Secondo me Cioè Stai per caso Stanno facendo finalmente Lo speed Che devono fare Un roster Che Sia Sulla carta Quel roster E non Perché ha scritto Sopra Cyberground Che intano Normalmente Fate aspetto Che chiama giochi In giungla Per favore Lisk Ricordati Che è da farlo Giocare almeno Due partite Così Al 100% I win rate Del migliore Ma Bloxy 100% 100% È un buon problema Ora Bloxy Lo fai giocare Support Sì E 100% MVP Anche questo Split Parliamo di Hotplay Io parlo Hotplayed Velocemente Perché io mi lascio La patata bollente In finale Proprio la parte Più gustosa Oh sì vai No Hotplayed Non è la parte In finale La parte Scusa Non ho capito male Ok va bene Ho un po' Da sparare Hotplayed Che a mio modo Di vedere Io vorrei chiamare Visto che Io parlo Brizzo ha detto Se volete Flammare Flammate Brizzo Pangi Secondo me Si sono ritornati insieme Hanno bevuto Tanto Alcol Prima delle draft Perché alcune draft Facevano Veramente Pena Però ci sta Bere insieme Certo che ci sta Beh oddio Ci sta insomma C'è da dire Che è anche la prima Esperienza Da coach Di Briz Quindi ci sta Fa cappare Qualche draft Ma perché Brizzo fa le draft No ragazzi Fermi No scusate Prima esperienza Da coach Ma da coach Ufficiale Si Cioè Perché lui Quando Quando giocava Era come L'assistant coach Faceva le draft Insieme Ai vari coach Lui ha una Conoscenza del gioco Anche proprio A livello di draft Di Di Prio Quale Quale Lenni Dari Prio In draft Come costruire La draft Tutto quanto Che è Enorme Non è quella Di un giocatore Normale Avere conoscenze Applicarla Nel ruolo Del coach Sono due cose Che sono due Due abilità Che richieste Diverse Ma infatti Quello che lui Deve Imparando Non è Fare le draft Ma è Calarle Con i suoi giocatori Con i giocatori Che ha A disposizione Che è la cosa Difficile del mondo Ovviamente Così siamo sicuri Che tutti sappiano Quello che succede Da quanto si è capito Pungie e Briz Fanno le draft Pre partita Pre stream Naturalmente Di Briz Poi dopo Pungie arriva lì E si mette un attimo Con quello che Le va ad adattare In base a quello che succede Perché poi giustamente Partiamo con un'idea Stabiliamo qual è l'idea Poi Durante Durante la draft Vera e propria Cioè Pungie Cerchiamo di capire Se l'idea che avevamo Era giusta O se dobbiamo Aggiustare il tiro In qualche modo Quindi Questo è il discorso Possiamo affermare Un attimo Briz Il fatto che Gli hot player Stanno facendo letteralmente schifo In queste ultime settimane e mezzo Sono 1-3 Sono 1-4 Sono 1-4 Io P Eh sì Dopo il 4-0 No 1-3 Perché hanno fatto Una vittoria su 4 partite 1-4 Scusami Ah 1-2 Infatti 1-3 No ho sbagliato Io ho fatto 1-3 O una vittoria su 4 partite Sì Ok Detto così va benissimo La pareggia di bravo Prendi sempre i punti canale Perché poi dovrei fare Un altro tanto di cappello Anche te per favore Così almeno mi rimetti il cappello Certo certo Grazie mille Ma io ce l'ho un po' Ah fammi farlo Stavano 4-0 Adesso si ritrovano 5-3 Quindi è chiaro Ma poi il problema Che sono le prestazioni Cioè Noi abbiamo visto Le prime due settimane Di Outplayed Con un early game Non dico disastroso Però molto difficile Sì Anche se non è molto più Poi però Quando si iniziava a tinferitare Era uno di un altro pianeta E non li tenevi Più di Ace Che fa i miracoli Quando serve Eh bravo Ok Si conosceva così Poi ora invece L'ultime 4 partite A parte quella Hanno giocato benissimo Al day one Di questa settimana Sì quella che hanno vinto Contro i Samsung Contro i Samsung Ho giocato benissimo Dal primo All'ultimo minuto Poi però Contro gli Axelot Hanno mostrato I stessi problemi Che avevano avuto All'andata Perché vediamo che All'andata Anche all'andata Gli Hoppede Avevano rischiato Contro gli Axelot Che erano andati in vantaggio Soprattutto nell'early Ma non c'era Tinelli E ha fatto la differenza Si è visto che ha fatto La differenza Settimana scorsa Hanno perso Contro i Machko Senza giocare Contro i Severground Hanno fatto meglio Ci sono dei momenti Come allenamenti Inter Milan Gioco così Domenica Guardami quanto sono bello Per dire Una cosa ovvia Stessa cosa in Scream Non mi vengono Naturalmente Esempi Faccio un esempio stupido Io ho fatto Il bootcamp Per Rainbow Six Siege In cui aspettiamo Atleta come organizzazione Comunque dicevo Perché gli Humble Hanno finito di giocare Lo split Quindi posso dire Le cose tranquillamente E il roster Era completamente diverso Quindi ora posso Parlare tranquillamente Quindi nel senso Non sapendo Io vengo a dire Che alcune volte C'è proprio un errore Di fare Di fare Piccoli passi Che sono quelli giusti Ma li fanno In maniera Sconclusionata E fanno malissimo Non voglio rispondere A Beccepecce 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 Grazie mille Perché L'ho visto a Milano Fa parentesi Nella cosa di Webidoo E Youngball si hanno perso Dagli Axelot Ma perché gli Axelot Erano un team migliore C'è ci Marco Che è il mio più grande amore Tornando al discorso League of Legends Perché siamo in studio League E non siamo in uno studio Siege Tutto tu stai facendo Infatti tutto io Infatti mi sono penso Anche come host Di questa puntata Sì sì Mi sono messo e mezzo Mezzo avete messo Voi fa parenti Non io Quindi va bene Che però E Proprio gli Outplayed A mio modo di vedere Non sono un team da top 4 In questo momento Concordo No ragazzi Queste ultime due settimane Non sono roster Da top 4 E anzi Solo le ultime due settimane Sì Però secondo me Le Outplayed Hanno anche fatto vedere Tante cose buone Sì Nelle prime due settimane Quindi secondo me In questo momento Siamo in una In una via di mezzo Cioè In un momento in cui Devono capire Loro stessi per primi A che punto sono Soprattutto Ah Nelle due settimane Poi voglio dire Ad esempio Quando parli delle scrimi Le cose che fanno Quando hanno scelto O hanno optato per Singed È ovvio che non è che sono Pic che arrivano così All'improvviso Cioè Se non vedete la mattina Ho detto oggi Perché Dalle scrim fatte In cui hanno provato Proprio quel pic Hanno proprio provato Singed Dalle scrimi D'età di raccorti Sono resi conto Che era un pic Che poteva andare bene Benissimo Poteva essere utile Principalmente Anche nella partita Ad esempio Che avrebbero Poi giocato Contro gli Axolot L'hanno presso Singed Si Non ricordo male Si Contro zero Quindi Mestresti Cybergrande In top 4 Al posto Di OP Si In questo modo Vedendo le ultime due settimane Si Vedendo le ultime due settimane Allora gli Axolot Vanno in top 4 Fermi ragazzi C'è il match con atleta Axolot E un quarto In questo momento Gli Axol li metto come terzi Ah ok La sfida è 5 Ma si è 5 Si E la 5 Io non mi sento In questo momento Ancora Di escludere Del tutto I Samsung Monistar Sono sicuramente La squadra che sta 1-1 Due passetti indietro Non fa niente Però la classifica Ci racconta Comunque Sono a un solo punto Dalla quarta posizione Quindi Non li escluderei Del tutto Potrebbe succedere Qualsiasi cosa Nell'ultime tre settimane No No Trugandicci Perché no Sentiamo I Samsung Monistar Non sono un ross Da top 4 Per dei semplici motivi Ancora non sono così Abbastanza forti Da poter giocare Hanno fatto un cambio Che letteralmente È un minimo upgrade Che non gli permette Nemmeno di essere In top 4 Quinti al massimo Se tutto gli va bene E terza di poi A mio modo di vedere Di pensare Il roster Ancora gli manca Quel qualcosa Proprio come Lavoro di squadra Per poter essere In top 4 Se mettiamo I Samsung In top 4 Allora devono essere I pro Alpha 6 Perché se no Veramente Io tiro fuori Che Axl E CGG Hanno trollato Completamente Da domani in poi Anzi da martedì Visto che è martedì Si gioca Pigezza Sono a un Un punto E Truner è caldissimo E non ho ancora sentito Si macico Perché quando parto Si macico Che la patata bollente Che si tiene per ultima Infatti Perché mi sa Che le abbiamo Affrontate tutte Quindi credo che Manchino solamente Faccio parlare voi E poi parlo io Si macico Allora vai Io andare a dire Che gli Outplader Siano fuori dalla top 4 Mi sembra Follia pura Hanno troppa qualità Troppa qualità Ed hanno anche quella qualità Che ti permette Come hai detto Troppa qualità Inespressa però E in realtà Ni Perché tu hai detto Nelle prime settimane Hanno fatto vedere qualcosa di buono Nelle prime settimane Molto di quello Che hanno fatto vedere È stato Talento puro Espresso a fronte Di non gioco Non troppo organizzato Perché erano Nelle prime settimane Quindi Il problema è che Le altre squadre Adesso si sono organizzate Esatto Certo E infatti E loro no E loro no Quindi loro sono rimasti Con prima Anche perché Se noi guardiamo La partita contro Scusate La prima di questa settimana Era contro I Samsung Monistus Ad esempio Ha fatto Ha mostrato Ha fatto vedere Chiaramente Che fra le due squadre Fra i due roster C'è una distanza importante In termini di prestazione Ecco perché Sanso Secondo me Non sono da top 4 Perché se devo mettere loro Allora Vuol dire Che ci sono così troppi roster Che hanno intanto Da martedì in poi Vabbè E poi qui posso sbagliare Ragazzi Cioè io Ora Le prediction Lo dico qui Le sto trollando pesantemente Penso che tutti se ne siano accorti Perché se no Ragazzi Buongiornissimo caffè Il caffè Fra parentesi Delle 5 Me lo voglio fare È molto buono Perché quello che ha fatto Il caster scarso L'ha fatto bene Non l'ha fatto male Perché un caster scarso Quindi più scarso sei Più il caffè meglio fai Certo Ah Allora sono bravissimo A fare il caffè No scherzo Sei bravissimo Infatti mi si è piaciuto tantissimo A Torino Fra parentesi Soprattutto quando Allerittura Quando fra parentesi Dovete sapere Che io sono portatore di sfiga Per questo ragazzo Perché a Torino Durante lo showmatch Hanno fatto un fight bellissimo L'hanno vinto Ho detto Vabbè ragazzi Avete vinto voi Atleta contro Yachtplayed Dieci secondi dopo Arriva l'acquisizione forzata Di Angry Panda Che vince lo showmatch Sì È tirato un bestemmio Dopo però Infatti i caffè di giovanete Più buono del mondo Run Non bacia anche a te Fai vomitare Infatti Ha fatto un letter Io rispondo subito Però Sono contento Con queste Che ti sei piaciuto Il caffè Ma Determete Lo dico tranquillamente Se quello Al momento su League of Legends Perché su Rainbow C'è il Raki Che è una cosa pazzesca Raki Se senti Raki Non so come faccia Tutta quell'energia Io sto iniziando a sentire Mare le corde vocali Per provare a stare al suo livello Tu a livello di energia Sei una cosa pazzesca C'è poco da dire A livello di energia Sei bello forte Oh Far piangere Grazie Apprezzo molto Ci sono le migliorie da fare Come ogni castro In questo mondo Assolutamente Infatti ogni volta Lo dica di Ojemu Non so come mai Mi avete votato Come top 5 castro dell'anno L'anno scorso Io dico sempre Lui testimone Che dico sempre Che io non sono di livello Però Nel senso È la verità Quando uno è bravo Bisogna dirlo Grazie Apprezzo molto Veramente Non so se mi sta togliendo altro Perché lo dici in un certo modo No Sono serio È commosso È seriamente commosso No via Voglio partirei Voglio partirei io Perché qui ci sono i macchi Vabbè In realtà Dici di tutto lui Oggi Vai 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 Perché poi devi sapere Che Studio Trurian Studio Trurian Cambiamo il titolo Anche Trurian è molto bravo Madonna Il più forte dell'universo Sì sì Ha un caffè orrendo Guarda proprio Infatti lo faccio dalla macchinetta E fa schifo comunque Parto Vi chiedo Un minuto Un minuto Per clippare Avete un minuto Per clippare Vai È il team che sta più underperformando In queste ultime due settimane e mezzo Perché secondo me Stanno giocando Alcune volte In maniera veramente Che mi domando Machco Siete davvero voi Soprattutto Raresh Raresh In alcune settimane Sembra quasi che Il reddito di cedinanza O i soldi Che servono per arrivare in pensione Non è che gli arrivano a gratis Li ruba letteralmente Per farsi di dare a gratis L'ultima volta Che hanno fatto 0-2 Era stata Secondo me Tutta colpa di Raresh E Fermo restando questo Oh oh Alcune volte Dà quella sensazione Del Oh mio dio Cosa posso fare In questo caso Se devo essere io Quello che carria E non riesce a fare nulla Guarda che mai Triggerato Allora Allora Giustamente Susix Fa notare Però scusami Hanno vinto Contra Outplay E Atleta Però se sei il team Veramente forte Scudami tanto di ogemo Devi vincere con tutte E non fare il ganso Con match Atleta E con match Atleta Con Atleta E Outplay E così a caso Però Però ad esempio Salutiamo Black Russian Intanto Ciao caro Ciao La sconfitta Grazie che è vivo Che sembrava essere A sorpresa Contro gli Axolotl Adesso acquisisce Tutto un altro Aspetto Sì Visti che gli Axolotl Stanno a 5 vittorie consecutive E i match Come per dirne Una a 4 Io lo capisco Che tu dici Se siete il team Più forte Giusto Quindi dovete Necessariamente Vincere Contro Chi Potete lasciare Una Ma magari Contro squadre Della vostra Della vostra Della vostra Dicendo così Sono dicendo anche questo Per il semplice fatto Che ormai sono stato Disilluso In New Master Quindi Devo dire Con me Sono tranquillo In New Master Non vado lì Con l'idea Possiamo rifare Topotto Allora Beh John Non c'è Non c'è competizione C'è Enz Fine Soprattutto Una domanda Ce l'ho io per Susi Mi spieghi come mai Nell'istante in cui abbiamo cominciato A parlare male Dei Gigi E non hai detto niente Ma adesso E giustamente Ce la prende Con gli altri Ma sai perché Lo sta facendo così Susi sta parlando così Di Macco Perché fa La mentalità inversa Ah Ho capito Ho capito Perché devi fare queste battute Era una battutina Grazie Susi Tra gentile Ok Ora ho rantato Poi rispondo a Ben John Però prima Naturalmente A voi La vostra parola Allora Susi Sei d'accordo Con la verità E non con le bugie Parla dei Macco Grazie Parla dei Macco Parlando di Macco Hanno vinto Con una partita Della Madonna Probabilmente La più bella partita Che abbiamo mai visto Fino adesso In PG Contro le due candidate Insieme a Macco Finale E hanno espresso Il loro livello Vero Ci sono dei momenti In cui fanno Un po' Così Però è anche vero Che più e più volte Lo stesso Cristo Ha detto Io In regular Provo 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 E ancora Provo Provo Che cosa devo dire Tu si dice No beh dai Basta Io rimango anche Sempre dell'idea Che i Macco Per il tipo Di stile Di gioco Che hanno Per l'impostazione Che Cristo Gli da Che loro Si adattano All'avversario Che può essere Una cosa positiva Ma può anche essere Una cosa negativa Nel senso che Quando giocano Con gente più forte Giocano Ancora meglio Ah in questo senso Quando giocano Contro squadre Minori Giocano peggio Vogliamo parlare Dello scorso U Master Di com'è andato Di Ogemo Non l'hanno giocato Nessuno ha giocato L'U Master Se non l'hanno giocato Io sono convinto Di questa cosa Fermo restando Che ora è arrivato Antonio Antonio Dodisco Mando un messaggio Dirà E Trudian Cosa Stai dicendo E direbbe bene Perché Come ho detto prima Provo un po' A smuovere Questo studio league Che siete troppo dolci In questo ultimo periodo Che io vi ascolto sempre E sento troppa dolcezza Ci bisogna un po' di flame Noi siamo E comunque Ha ragione Su Non si può parlare Di U Master Perché quello È un discorso A parte No 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 Il livello Il livello Delle altre squadre È superiore Soprattutto In quel girone In cui ricordo Che c'era Il Barca Esports Dove c'era ovviamente Il che era terzo In Spagna C'erano gli Entropic Che erano un fintissimo Team da minor region Da non accredited Ed è il bait Più grande Che potesse arrivare Da una minor Perché gli Entropic In realtà E' un team Tranquillamente Può fare Top 4 Top 5 Non dico in Francia Ma in Spagna O Germania O NLC Ancora meglio Potrebbe farlo In NLC Potevano fare Tutti meglio C'erano su di 7 Qual era il terzo team Non mi sto ricordando Di un console log Mi sai Bifrost No 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 i Bifrost I Unicorns of Love I Unicorns of Love Era un Unicorns of Love Unicorns of Love Che hanno fatto 10 vittorie di fila Non fate Ricordare i nomi È impossibile Ora Ora vi rispondo In questo modo io Perché Giustamente Voi dite Leggevo anche la chat Non si possono fare Unicorns of Love Ah no Ah no Barsa In trovi che VLG Ha raggiunto Vero Vero Ecco perché Mi ho fatto The Win Scusatemi VLG Sì 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 Allora Fermo restando Che voi Non possiamo comparare Non possiamo fare Io dirò Una cosa Molto diretta Erano più in difficoltà I Maker Sto potto Dei Machco Con quel roster In quello split Rimango di questa Mia personale idea Poi Possiamo parlare E questa è una mia idea Personale Naturalmente Quindi qui Quello che vado a dire io È un discorso Mio personale Non è Fattualità Perché poi Uno può fare Miei discorsi Perché diciamo Che in Playins Avevo paura Per i makers Nei gruppi Era molto più facile Però Ecco Io sono stato Così tanto Disilluso Dei match Con lo scorso split Che quando vedo Un errore Mi Imbestiarisco Ma è ovvio Perché quelli Poi Alle romans In particolare C'è il tifoso C'è il tifo Che ovviamente C'è fuori Perché tutti Fino a squadra italiana E Vuoi Che quella squadra Vada Di un animale Ovviamente Quando fanno Gli errori Quello sì Però Deu Capiamo anche questo Io da questo roster Che ha fatto questi miglioramenti Perché come dicevi tu Il problema Era top e giungla E top e giungla L'ho fatto Degli upgrade Secondo me Molto vistosi Io Sinceramente Mi aspettavo Dammacico Un 14-0 Posso sbagliare Contra Teta Poteva essere Difficile Tutto il resto No cioè nel senso Te lo puoi aspettare Non ti dico di no Ma Conoscendo Dammacico E conoscendo Cristo Non mi stupisco Se finiscono 10-4 9-3 Quello che vuoi Ecco Che non finiscano Comunque 14-0 Non mi stupirei Il discorso Perché così Almeno sono sicuro Scusate Ma lo ridico Un'altra volta Solo per essere sicuro Qualcuno Qui in chat Clipa Inizia a dire Trudian dice questo Sto provando a flammare E a innalzare Il livello del flame Solo per rendere Per bilanciare Per rendere lo show Più interessante Per quanto io Sinceramente I match Sono il team da battere Secondo me Vedendo fino a ora Lo split E questo è l'anno Non è d'accordo Per questo aspetto Ok E secondo me Questo roster Nel momento in cui Ha giocato Contra atleta E outplay Se non mi sbaglio Che vinsero molto bene Ha fatto vedere Hanno fatto vedere 21 minuti Quanto è tu Il ride Del genere E secondo me Detta fra noi Si giocano in quel modo In top 8 Ci si può arrivare Quello che ho detto prima Era un modo solo Per innalzare il flame E per fare due chiacchiere Da bar Perché a me piace anche Mettere il lato Negativo del tutto In maniera molto dolce Paradox Sei un randoms Non mi hai flammato Durante l'intervista Al Nats Tanto fai 1-13 E siamo a posto Ma no Ma ci hai fatto un ride Sto rando carino Ciao Paradox Allora La partita Più bella Del PG Fino ad adesso È stata disputata Tra Marco E a teta Ok Il livello E fa finire Di dire la frase Sto mettendo la base Per Fammi 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 In quella partita Entrambi i team Hanno dimostrato Di essere A un livello Nettamente Superiore Rispetto alle altre squadre E quello che Di te Io Bado Prendo questa La sparò Fortissimo Sul muro E poi Mi butto Sui cocci E muoio No No Io mi dissocio Mi dissocio Assolutamente Non è così Mi dissocio Grazie A questo Cosa voglio dire Che è vero Che ci sono state Delle partite Dove sia I match Che atleta Hanno giocato Male Ma che c'è anche Da calcolare Che stiamo Prendendo La regular Molto sotto Gamba Cioè Stiamo facendo Dei pic Molto Normali Non stiamo Facendo vedere Nulla Lo so Che ha detto Pischio Ma se lui Dice le cose Che penso Pure io E perché Ce le diciamo Ogni giorno Se dice solo lui Io sto zitto Non me ne vado Se questo imbecille Imbecille Dieci cose Su dieci Me ne lascia una Posso parlare Pure io Popolo di Twitch Io mi dissocio Comunemente Da quello che dice No vabbè Dai Invece Vuol dire Dai Mi dissocio Comunque Per qualsiasi Rischio Problema Vischio Mio fratello Ma Se ci mettiamo D'accordo E capiamo Che questo Vabbè D'accordo Lasciami Qualcosa Dire Ok Ok Concludi Ancora Vaffanculo Vischio Vaffanculo Che ho detto Io No Questo è Quello Che ha detto Deogemo Che dice Ravey Vige Che fam Sempre Deogemo Quando Io ovviamente La penso Come rischio Perfettamente Perché comunque Ovviamente Noi viviamo Atletta Da dentro La viviamo Insieme Quindi abbiamo Un pov Completamente Identico Perfetto Va benissimo Quindi ci voleva poco Vasta dire Penso come Vischio Che abbiamo finito La frase Io volevo Di qualcosa Terrei a sottolineare Che no Non mi corrompo Ogni giorno Di più Sì Sì L'ha detto Questo Sì Nel senso Che è imbelle Ovviamente Artano Nel senso Che è imbelle E non abbiamo Lo stesso Pov Comunque Cioè abbiamo Lo stesso Pov Ma non abbiamo La stessa Idea Di tante cose Nonostante Gran parte Delle cose Che ha detto Le avevo Già dette Io Ultima nota Questo non è Etrurian E che c'è C'è il suo In mezzo Mi dispiace Volevo dire solamente Una cosa Aspetta Secondo me La di Kerry A Raresh Se guardiamo La regular season Non ha ancora fatto Quella performance Che fece con Aphelios Lo split scorso Che invece anche Pentakini In fondo Per dire Ma non può Giocare Aphelios E' una di Kerry E ne abbiamo Già detto La stessa cosa Inizio dello Scorso split Comunque Poi li ha giocati E l'ha fatto Ehm Devo dire E chiedermi Perché non glieli Fanno giocare Cioè Secondo me Enzo E' meglio Fate quello che dici Poi E' meglio Di Raresh Mi raccomando Mi stavo 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 E' secondo me Chi è Meglio di lui Di Raresh Sto pensando Perché Fatician Ma Faticio Sto facendo I calcoli Ma una cosa Riva un attimo Su quel sito Carino e interessante Sì Sì Quella accanto Vai su Vai giù Cerca Bot No 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 La sopra La sopra La sopra Ah qui Ah qui Che si è Che si è visto Durante Lo split Enzo Si Faticiano A me piace Tanto Faticiano Mi è piaciuto Il tweet Che hai scritto Tu Deu No io sinceramente Cioè Non avevo idea Cioè L'avevo sentito Qualche volta Ma non l'avevo mai Visto Quindi Cioè Sapevo che esisteva Ma non sapevo Assolutamente Di che tipo Fosse Infatti Quando l'ho visto Messo lì Allora Vabbè Hanno preso Questo Ok Adesso Sono piacevolmente Contento Di aver fatto Questa scoperta In termini di Che lo vedo Che finalmente Lo vedo Fisicamente E mi rendo conto Di quanto Sia effettivamente Un buon giocatore Che ti sa Carriare Che ti sa Trascinare Che sa Prendersi team Sulle spalle Le risorse Che gli dai Le sa sfruttare Fantastico Fermo restando Che Rares A livello Di performance Su tutto l'anno È meglio Di tutti gli altri Anche rispetto A Enz Imo Io ti parlo Se ti devo vedere Questa regular season Rares È sotto A molti giocatori Alcuni giocatori Non molti Chiedo scusa Se no Dico una cosa Per un'altra Se ti devo vedere Tutto l'anno Quindi da gennaio Fino a ora Rares È stato il miglior Bot laner Quindi mettiamo Anche tutti i suoi pick Particolari Di tutti i pg nationals Io non ho mai visto Enz sbagliare Io ho visto Enz In summer Molto spesso E ho paura Sì Anch'io Però Contro bilanci No comunque È vero In summer Enz comincia a spegnersi Perché Già mi sembra Una partita Mi sembra La partita Contro i match Che hanno Stradominato i match Enz era un po' spento A un certo punto Mi sembra Che c'era una partita In cui avevo un po' No ma non era quella Sicuramente Comunque Enz ha fatto Con Enz E ha fatto Il devasto No ma È vero Sì 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 Se voglio dire una cosa Scuderi Vai su Ligpidia Fai vedere La foto di Mumbai E' quella mia Madonna mia E draft Aiutano Gianluca Sì Dici bene Riapri un attimo Il canale Twitch Così rispondiamo E quindi Giovanni ti ho risposto Quindi io ho fatto Tutto quello che devo fare Se volete parlare Di fantasy lc Io mi tolgo Perché tanto Sono inutili No Una cosa Io sono Di modo fanatic Ragazzi scusatemi Devo soffrire anche Le fantasy lc Prima abbiamo visto Con il computer Hanno fatto vedere I dati Di diverse di carry E se hai visto Che counter ad esempio Da quando Da quando li tifi Fanatic te Da Stiamo parlando Fate fate Utiliamo i microfoni Fai pure Hai fatto vedere Che prima ad esempio Counter Counter aveva più Che il participation Di hands Da quando ce la posso In consenso inferiore La fighissima Dai Rai il veggie Il tuo momento Prima ha fatto vedere Ad esempio Vischio Meglio però Guarda che stiamo Senza microfono Fai Io non ce la faccio Perché vi sento Dicevo Prima Vischio Ha fatto vedere Con il computer Che ad esempio Counter aveva più Che il participation Di hands Ma non è aperto Migliore E Signore Aiutami tu Di chi è meglio Di quello che sto dicendo Ah si Un po' si dai Secondo me si Ma Questi dati Sono un po' Falsati Perché Il team di counter Tende a giocare Tutto Sul farlo Ipercarriare A counter Invece noi Invece noi Non usiamo sempre Hands Come Ipercarri Perché noi abbiamo comunque Sonic Smith Che può carriare E soprattutto anche Gabbo Che è un'altra Grandissima win condition Quindi nonostante questo Hands Secondo me Ha dei dati Nettamente superiori Se andiamo a leggere Anche il contesto No ma io infatti Stavo parlando di Kill participation Con counter Perché proprio Counter E Quando i Samsung Iniziano a giocare E quando lui È in grado di farlo Esatto E questa cosa È un grande Difetto Perché se Counter non gioca Se qualcuno Blocca Cioè nel senso Se non puoi avere Solo lui Come win condition Perché se lui Non gioca Lui viene bloccato O succede qualcosa Il team Non ruota Il team non gioca Non sono d'accordo Sul fatto che abbiamo Solo lui Però Sta funzionando con lui Esatto E sono in grado Di adattarsi E metti cazzo E questa cosa È un grande difetto In un team Perché Scusate Tu devi essere in grado Di avere comunque Un piano B Un altro Un altro modo Per vincere la partita Non solo Un player Se a noi Ad esempio Enzo non performa Abbiamo comunque Gabbo Ti ho fatto un esempio Ok ma È quello che racconta La forza di un team Cioè la forza di un team È che Stava troppo forte Se un giocatore Non è in giornata O non riesce a Essere messo in condizione Anche semplicemente Di poter performare Ce n'è un altro Che convenza Di questo ti lo valuto di più Ti sai adattare A quello che succede Quello di Enzo Lo valuto di più Perché Enzo Non è lui Che fa danno Puoi premere Sui click Su D e PM Per favore Scusami Giorgiamo Ma qui voglio Dire una cosa Benvenuti Nella Church of Tabarelli Perché Tabarelli È la dichiaria più forte C'è Gioannetti Che è d'accordo con me Gioannetti Ho fatto l'annuncio No era quello L'annuncio Era quello L'annuncio In fantasy PGNaz Davvero Sì Dov'è Oggi volevamo uscire Con il tweet Fammi vedere Chi mi ha scritto Gioannetti Questo Ho sbagliato tutto Vabbè Fla Tu c'hai Il computer Del 2002 Deo Provo Il computer Del 2002 Volevo farti vedere Fagli vedere Fla Un sacco E una piotta Sono Sono Se lo fai cadere Attestato in bocca Ti prendo Telefono Il cervello è nuovo Sì adesso posso guardare i video Posso scaricare i giochi Attenzione Quanto è costato 350? No 250 Un sacco è 1000 euro Mi nipote in Cristo Come? 1200 Ma è OnePlus? No LS22 Ultra È uscito l'altro ieri Ultra E c'ho un anno e mezzo Di adidrate da pagare È presente Ah Come? È presente Quello che è successo Prima con la macchina? Sì Lui è passato Non ha ancora La cover E il vetro sopra Dura un giorno Quel coso No Susi Non hai comprato la cover? No La vado a comprare la cover La vado a comprare dopo C'è la prima cosa da fare Che palle Tra l'altro Vischio Vischio È anche un Vischio Cioè Vischio fa le vischiate Vischio qualsiasi cosa fa E tocca Cade e si rompe Ora ragazzi Basta fare i telefoni Ora sappiamo dove sono finiti I soldi del premio Del PGNash A parte che Vischio è ricchissimo Quindi si può permettere Tutti questi telefoni Ora è arrivato il momento più bello Regia è pronta per far sì Che il nostro Deogemo Può parlare Del Fantasy LC? Perfetto Ma poi lo siamo sempre Che è successo? Vedo che tra poco Fra 20 minuti Normalmente dalle 3 alle 5 Io inizio avere paura Non so Se bisogna fare cose veloci Sì o no Alle 6 è la formazione Noi possiamo manche chiudere Alle mezzanotte Possiamo chiudere No L'ha detto eh Chiudiamo mezzanotte oggi Vabbè io devo da fumare Sì Vischio la fuga E te ha leggero A me da solo Sì Poi quando vuoi mangiare Ti ordini anche da solo E li apri Certo Vabbè E torna a pigli a casa Basta cliccare sulle applicazioni Che tu hai sul tuo telefono Ne ho tantissime Ah è carichissimo Ne ho tantissime E prima hanno detto la cosa del Senza cancellare le foto Cancellare le foto Non bastava più Io ho dovuto cancellare Pokemon Go ragazzi Oh Ecco perché non mi mandi più il pacco Non lo dire così però Devo essere sincero L'ho detto apposinamente così Devo essere sincero È la battuta più cringe e bella Che abbia sentito Nella giornata di oggi Vedi Vedi Perché ti mancano le mie Io Apriamo la domanda per giornetti Ma lui fa le Aram anche in piedi Anche le Aram le fa in piedi A casa di Etrullian mi pare di sì E a casa mia le faceva in piedi Sì Perché avevamo posto per il suo computer Il presidente ha voluto vincere il PG Solo per comprare un telefono a vischio Ma lo so comprato da solo Tra l'altro lo paga il mio fratello E io gli do i soldi Che è lui quello ricco La prendo la cover ragazzi Etrullian è anche il lead broadcast producer di atleta Quando vengo a Roma Voglio condividere una pasta di sigaretta Quando vuoi tranquillo Ho pure due di pasta di sigaretta Bad job Di feila A casa di Etrullian si A casa di Etrullian fai le Aram in piedi Perché non c'era il secondo Perché non ho Il secondo tavolo E quindi lui ha dovuto Ho fatto anch'io la Aram in piedi Una volta Ma tu devi capire che Io e Giovannetti Ora inizieremo a fare streaming Giocandogli ai due qui insieme Signore Finalmente Rocky Horror Picture Rocky Horror Picture Show Road to Gold No Rocket to Bronze Diverso Molto bene Torna Bronze E io vado Bronze Facciamo Super Flex Se mi imitate Facciamo Super Flex Oppure con te Dove giochi Etrullian? Bot AdiCarrie Io sono un grande amante AdiCarrie Io sono stato Un grande amante Visto che tra poco Si parte di Fantasy Lc Di Pussu Di Forgiver Di Uzi Pussu ragazzi È stata Il più grande acquisto Dei fanatic La più grande scelta Di Reckless Di non giocare In mondiali di Season 3 Non è che non li voleva giocare Cioè Non poteva No 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 Lui poteva La storia è questa Lui ha potuto giocare L'Intel Xtreme Master O cos'era Il torneo L'I65 La cosa del genere Qui qualificava i mondiali Si qualificarono Aveva l'età Per giocare i mondiali Allora ci fu La riunione di squadra E dissero Chi gioca Pussu Pussu O lo gioca Reckless Insieme a una squadra Disse anche Reckless Fu il primo a dire Questo L'ha portato Pussu E quindi Giochiamo con Pussu Bot E quindi Gioca con lui Al posto di Reckless E Pussu In quello split Fece delle cose Mamma mia Con Corky Bot Quando Corky ancora Si giocava di carry Mamma mia Era fantastico Voi cercatevi Anche se i game Sono molto lenti Quindi Non so se vi piaceranno D'altro faccio fatica Ripeto Cioè io li guardavo Ma faccio una fatica enorme A dover riguardare Un game dell'epoca Oggi Si Con quella mappa lì E quella grafica lì Faccio una fatica enorme Anche i draghi sono diversi E i draghi davano solo gold Tutto Tutto L'era non esisteva Ma proprio Cioè a me Da un punto di vista visivo Mi dà fastidio Eppure li guardavo Quei game Quindi Nel senso Guardateli Perché Pussu Tra la partita In una partita dei gruppi In cui non giocò Per niente bene Fu forte Poi arrivò Uzi E sapete tutti Che Uzi È troppo forte Cioè Uzi Io stavo giocando Come si faceva A vedere Che avevo fatto Penta il Coswayne In Aram Visto che aveva detto Che faceva 4 kill Beh ma in Aram Non conta Coswayne In Aram Swayne Proprio Swayne In Aram Cosa dovrebbe contare Chi devo giocare Quindi nel mio fantasy LIC Che io ho il telefono Allora Allora Direi Io Oggi Oggi è particolarmente Difficile Perché Abbiamo Cioè È particolarmente Difficile Perché praticamente Va a finire Che probabilmente Dobbiamo appellarci Ai Vitalis No Ai Vitalis Mi devo sentire male? Probabilmente sì Considerate che Perché oggi abbiamo Allora Oggi abbiamo G2 Esports Mad Lions Ed è una La partita Penso più Coin flip Che possiamo immaginare Nel senso che Non è chiaro Capire Tutto su quello Devo puntare Volendo anche Fanatic Astralis Non è una partita Facilmente pronostricabile Poi abbiamo anche Excel contro Rogue Cioè Abbiamo tre partite Che sono veramente Da Da non lo so Quindi a quel punto Uno dovrebbe andare Sul È impossibile Cioè O meglio Non posso Credere Che succeda Questo E quindi Cosa si fa? Si punta sui Fanatic Semplicemente Perché Upsetti Ma sulla botlane Non su qualcun altro Sulla botlane Cioè semplicemente Su Upsetti E il sangue Perché tanto poi Dovrebbe essere Comunque una sicurezza Ma spero che Fanatic Dopo le Queste prime batoste Prese nelle prime partite Si rendano conto Si siano resi conto Che qualcosa Da cambiare E va modificato Tanto 13 di credito Costa 13 Ma perché Golden Gli ho messo Tre oggetti Di cui due epici Quindi sì 13 su 21 Io Mischio a scioppa Molto questo gioco No Mai fatto No Non è vero Non scioppa Quella Diciamo che lo difende pure Vabbè Perché non è uno scioppa Quindi una volta che metti Upsetti Ilisang A quel punto Altri due li prendi Dai vitality Perché come detto prima Non posso credere Che i vitality Perdano anche Con gli escape gaming Eh lo fanno E allora Prendete due su tre Dalla Dalla top lane Alla mid lane Non so Io ad esempio Ho messo Aru e pers E poi rimane Il top lane Per me O per voi Non lo so Chi può rimanere Per me rimane Il top lane E ad esempio Ho deciso Di mettere Di dare fiducia Ad aggressivo Ma secondo te Mikix XL rog è una partita Che secondo me È Troppo difficile Ok allora Può anche andare bene Ma Cioè ripeto Io oggi vengo da te Dopo le prime due settimane Di Lc Fosse stato l'anno scorso Ti avrei detto rog Ti avrei detto Metti comp Metti marrang Oggi invece hai XL contro rog Con gli irog che vengono Dall'aver fatto 2-0 Scorsa week XL pure Che sono primi in classifica Chi è che vince Fra XL e rog Ehm XL Io oggi ti direi XL Ma non ti direi Ragazzi Vincono sicuramente XL E quando fai il fantasy Lc Tu devi cercare Di andare il più possibile Sul sicuro Oppure Oppure Sei consapevole Di essere Un Di che stai Provando A capire cosa può succedere E Metti Quello che tu pensi Che abbia più probabilità Che non sono però probabilità alte I medlion contro G2 Secondo te possono fare qualcosa G2 sono troppo forti? No secondo me I medlion Possono pure vincere I favoriti sono i G2 Ma se vediamo I G2 Che hanno giocato contro i BDS E i medlion Ma i medlion Sono la squadra In questo momento Meno costante Cioè Stavano vincendo contro i rog E hanno perso Flippando All'era All'elder Ehm Hanno perso Settimana scorsa Ehm Aspetta contro i G2 Che hanno perso la partita Non mi sta venendo Aaaaa Perché sono vecchio Hanno perso però Che erano contro gli XL Ma hanno vinto contro i fanatic Quindi Mad contro i G2 Esports E' tutt'altro Che una partita Già scritta Eeeh A questo punto Misfits Anche Misfits e BDS Come fai a dire Chi vince Fra Misfits e BDS Dopo che i BDS Hanno vinto contro i G2 Esports Hanno portato i fanatic Al cinquantesimo minuto E hanno perso Solo perché Apsest Ha deciso Che quel Baron Con la scintilla Di Zeri Doveva essere suo Con la scintilla Non era una W Non era Cioè Ha fatto la ultimate Ha lanciato una autoattacca Che è andato a rimbalzare Sul Baron Perché aveva livellato Perché il Baron In quel momento Aveva livellato Di Dio Geo E se ne ha preso Cioè Per me Come fai a dire I BDS Che perdono Mentre i Misfits E' una settimana scorsa Però è quando fanno Giugare gli uomini E allora E allora Fate quello che volete Stasettimana Sintetizzata è così Ti faccio vedere la mia Ma facciamo così Perché quella lì Di chi è Questa è la mia Questa è la mia Io invece Ho messo Top aggressivo Giungla Gilius Perché Gilius Per me è amore Ma Gilius sta contro Vitality Sì E quindi Perde Ma stravince Gilius non lo tocchi Vabbè Caps Aps E Tilius E Mecca Ti può dire Tanto 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 male Oppure bene Mi piace che Soltanto tanto male Oppure bene Non ne va dalla candela O Tanto 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 male O bene Beh adesso Non ne va dalla candela Ragazzi Queste cose Le fai Quando hai Questo oggetto qui Che ti copre il culo E vuoi schiare Andare su all in Cioè Il not today Quando hai il not today Che ti copre Not to yota Esatto Va bene Che fa presi C'erò il not today Lo utilizzerò solo perché Me l'ha detto vischio Ma non adesso Perché non so quanti punti Hai schierato in cano E upset d'oro O upset d'oro Sì 17 su 22 Per il momento Ok Ok Allora vabbè Che tra un po' Potrei giocarti 50 punti Davvero? Eh sì Perché sale di 2 Ogni giornata 2 ogni giornata In Elioia Nuke Xmettikaiser Che ci sta Anche questa ci sta Molto variopinta Sicuramente Beh John Però secondo me Cioè Oggi è veramente Una di quelle giornate Ha già giocato 2 giornate Ricordiamo Puoi Puoi mettere Qualsiasi formazione Ed è comunque Una formazione Che potrebbe funzionare Sì ma Xmettik È comunque una formazione Che può funzionare E aspetta Xmettik Si è già giocato 2 giornate In NFL Si Per settimana Si Perché hanno Squalificato Groundshot Si Perché sapete Che Groundshot E Nemesis Erano amici Per la pelle Sistemi a Selfmade Lo so Lo so Ogni riferimento Per quello che successe È puramente casuale Però Nemesis Sono flammato Così tanti Sì Selfmade lo so Nemesis è particolare Nemesis E quel passivo aggressivo Eh sì lo so Che dici Ma no È un ragazzo molto dolce Pacato Mi stai sui live? A volte Ma non troppo Non troppo tempo Ecco E soprattutto Da mutato Il più delle volte Ah ok Allora non conta È come dire Che è come dire Trulio è un bravo caster E lo ascolti mutato Cioè Non vale Non vale Come fai capire Se sa fare il caffè o no? Non puoi Infatti Ravivege lo sai Che veramente dopo Mi prendo un bel bicchierozzo D'acqua E un bel caffè Fatto da te Così La sera Ti faccio tutti i caffè Qual è il modo migliore Per farsi portare il caffè Da Ravivege E dirgli che lo sa fare bene È meraviglioso Aspetta Come lo fai il caffè Ravivege Con l'amore Con l'amore? E come fai Il Super Fantasy L.C.? Non lo faccio Col c***o La battuta Per rendere più catch Il momento Con Deogemo Ah Con Deogemo Ok Lo rifacciamo ragazzi Ravivege Come lo fai il caffè? Con Deogemo No No Chuck 3 Si gira Ravivege Come lo fai il caffè? Non lo so Come dovrei farlo? Signore Io prenderei la domanda di Artanna E come fa Ravivele la carbonara? Male Male Eh va bene Fra parentesi Ma perché ogni volta Devo uscire il pacazzo di carbonara? Fra parentesi Fra parentesi Ieri Ieri ho avuto l'onore Di andare a cena fuori Con Artan E Mr. Jack E ho mangiato Dei rigatoni Con la coda Cosa? Con la coda Che sostanzi No non le puoi mangiare Una cosa Spettacolosa E qui ancora Da atleta Non ho avuto Né una carbonara Né una caccia e pepe Né una gricia È vero Tutto vero Posso confermare Perché oggi ho avuto Aviz Qua vuole in GOP Non era Aviz Erano i falloni Erano i falloni Perfetto Sono una specialità Della zona Quindi non Della zona Roma Se avessi avuto Se avessi avuto Cannava Ciò Adesso sarebbe pieno Di schiaffi Io Perfetto Devo dire una cosa Perché qui tutti Inflammiamo Revil Però devo dare Devo spezzare la lancia A favore suo Ancora io non ho visto Revil Fa la carbonara Dal vivo E beato te Ma meno male Perché se lo guardi dal vivo Poi te la devi pure mangiare quella Attento E chi ti dice che Ieri è il momento in cui Inizia a farla Non scappo No no lo fai Te lo dico io che scappi Appena lo vedi proprio I falloni sono più grandi E più piccoli Dei pacchi che dà vischio A Deogemo Più piccoli Che culo è tu Che culo è I falloni Non so come Ho un bel fondo schiena Per tutti quelli Che sono interessati Ho un bel fondo schiena Ma i falloni Si chiamano così Per qualche assonanza Sì Per il cazzo gigante Che metti dentro Perché sono Di quella forma E sono ripiene di Cose Qualcosa No di tante cose Tipo Pollo Salsa burger Ah veramente per quello Eh sì Ah non lo sapevo Io ho detto così Io ho andato per fare una gang Da quant'è che ne vede A Roma qui lui È vero Sto split Praticamente A più di un anno Oramai che viene A più di un anno Sono stato due mesi E mo Questo è il mio terzo mese Cioè Ma Ma questo ragazzo Sì Ci ho provato È un sacco Che ci provo Ah ci voleva fare cosa Poi che soggetto C'è in questa frase È troppo Eh Non è questo Del sud Hai capito Perché anche Roma È sud ormai È troppo provinciale Hai capito È troppo paesano Ho capito Ho capito Il ragazzo dovete farlo uscire un po' di più Ma ci si prova Ma che cosa vuoi Sai che l'ultima volta L'ultima volta Gliel'ho proprio chiesto Lui stava ancora in quel paesino là Rutigliano Sì Il mio fratello Rutigliano Mio fratello Rutigliano Anzi saluto I nostri amici del Rutigliano Che ci seguono Ciao amici di Rutigliano Ciao amici di Rutigliano Infatti ho sentito Così non mi ricordo Era un giorno Un sabato Ho fatto Ma che fai stasera Eh stasera esco Con la mia signorina Ho fatto Hai dove vai No a casa Cioè scusa Esci e vai da lei No no viene lei da me Allora dove era La signorina Sta guardando questa diretta No Non guarda mai Come no Non guarda Non guarda Cioè quella sera Siamo andati a casa Abbiamo mangiato pizza Non siamo andati a casa Perché tu eri già a casa No io sono uscito Mi sono chiuso con lei E poi siamo andati a casa mia Per quanto tempo Ci siamo visti Le folie dell'imperatore Con la pizza Perfetto Ma la pomerola L'era in coppa o sotto? La? La pomerola L'era in coppa o sotto? La cosa? La pomerola Che cos'è? Pomodoro Ah Ma no Cioè Così Aviz Aviz Ma guarda buona Aviz Con la pomerola In coppa No niente Rischio Ma io devo capire una cosa Ma qui a Roma Le varie organizzazioni Come le scelgono i collaboratori? A caso Pescano da In realtà stavo per terra E mi hanno pescato Per farmi entrare qui Grande cartone Non dateli credito Grande cartone Le folie dell'imperatore Ragazzi Grazie Il cartone è bello È bellissimo Il problema è uno Che lui dice esco E sta a casa E sta a casa Vabbè ragazzi Stai con la tua signorina Cinque anni Signorina di Reville Facciamolo uscire un po' Questa ragazza Signorina Vage Ma non credo che sia la signorina di Reville Il problema Credo che si siano trovati Vorrebbe uscire tantissimo È Reville che proprio Confermi? No non confermo Perché noi quando ci vediamo Decidiamo cosa fare E entrambi va bene Farci i cazzi nostri a casa Che furbo Per quello sta a casa Vedi perché è provinciale Perché Perché Quelli che stanno in paese Sono paesani Che escono a fare Non c'è niente Non è che sta come Roma Che Fai i due quartieri C'è quello che ti facciamo Ragazzi Questa è Un'utopia Creata dal tuo cervello Perché sai che vincerò io Il fantasy E di sì Ma sei iscritto alla mia lobby? Noi sono iscritto alla lobby di Susi E basta No Ecco Ma non quella mia Io anche sono iscritto alla lobby di Susi Quanto è di Susi? Di pesce? Sì Quella che pesce Come si chiama? Vai un attimo sui lobbies Sì Quella di Aquarium Quella di Aquarium Ma l'ha creata Susi Vai Season Sì Guarda Aspetta dove è Trurian? Ming Sono dietro di Ogemo Di 10 punti Ma parentesi perché scusa settimana Piccola notte Intanto sto distruggendo il microfono Non ho fatto il team E non si fa Mi dispiace per te Ma io sono in top 4 No top 3 No top 4 Più forti di atleta Vai un attimo sul game day Game day 5 Infatti ho fatto schifo Perché è quella in cui Così Ma comunque Ogemo è sopra i Trurian E vai a game day 4 E comunque Ogemo è sopra i Trurian È vero Vai sul game day 3 Non ho capito Ogemo Sai qual è questa? Questa è la giornata In cui hanno tolto metà dei punti Esatto Vai sul play day 2 Così inizia a star zitto E ogemo è sopra i Trurian Vai a game day 1 La prima non c'è Perché la prima L'hanno annullata Vedi Vedi poteva essere sopra Poteva essere sopra Io se non ricordo male Se non ricordo male No non sono tante Sono tante Sono 99 Sono 99 Sì 99 Oh Lamentati Così Chi è un cavallo disponibile? Un po' di gente che mi ama Eppi che si chiama uno Non è solo gente che ama te Anche perché ti ricordo Che se scrivete Punto Schemativo Fantasy Lc All'altro videogemo Ci entrerà Compare il mio È vero Compare il mio Scusa Apri un attimo Twitch Voglio dire una cosa Voglio leggere una cosa Non scrivo niente Vedi In questo momento Stiamo parlando Di come videogemo Era più bravo di me Al Fantasy Lc E nessuno scrive niente Esatto Invece parlavamo Per quale motivo videogemo? Nessuno può afframmare dogemo qui Solo re Sì vabbè Però È come se fosse questo alone Di minaccia Lui è sempre buono Io dogemo lo minaccio Perché ho avuto modo Di rivederlo dal vivo A Milano Un paio di settimane fa Perché siete vips Perché 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 è venuto a Milano Perché è andato a Milano È andato a Milano Dogemo E non è andato E non è venuto a Roma oggi Infatti che pezzo Dogemo E neanche la settimana prossima Che a quanto pare sarà Buon compleanno Studio League Perché è un compleanno? Perché è un anno Oggi? No Il 26 giugno Era un anno 26 giugno E dovviene chi doveva venire qua A festeggiare il compleanno? E tu vieni? Diciamo Bravissimo Tanti auguri A chi tanti Tanti auguri Tanti auguri Quando viene festeggiamo Tra l'altro Primo ospite di Studio League Sai chi è stato? Diciamo Ferakton Qui No no Quindi prendi le veci di Ferakton Un anno fa Subito dopo Ferakton Oddio Che è stato il secondo? Eh no Ora aspetta Te lo vado a prendere Vediamo se c'è Dovrei averlo scritto Aspetta un attimo Che ci devo andare E te lo posso dire forse Allora Dov'è qua? Tac Nel frattempo io Non ho avuto paura Devo dire Sto squarando Che vuol dire stai squarando? Cosa vuol dire La prova a squarare? No dai Però tu non lo sai Squarare sarebbe Tipo far la schiuma In romano Sì Nel senso che sto sudando Sto sudando Sto schiumando Allora il primo Ferakton Secondo Korax Ah Korax Moonboy Mundos È vero Nessuno Cristo Sozze Fami sentire Quanti nomi ci sono Prima di me Ace Roxas Giovannetti Wolkat Eddie E finalmente Il 5 novembre Viene Trurian Chissà quante volte Gli hai detto no Forse perché le dicevi di no Sicuro Vuoi che ti dica la verità? Sentiamo Dici la verità E Trurian Perché nessuno mi ha invitato E mi devo sempre ogni volta A autoinvitare Però è la terza volta che viene È la terza? Sì Perché sei venuto È solo uno dei pochi Che è venuto direttamente a Roma Per fare il studio lì È vero Sozze Ma tra l'altro Penso che sei l'unico Che è venuto apposta Che è venuto tre volte No Anche Chema No Chema 2 Chema 2 No Chema 2 Sto arrivando Dice Susi Prossimo ospite Susi Sto arrivando Stavo alla casa Susi Te muove No se Susi vuole venire Vuole venire No Susi non deve uscire Da casa Non deve uscire di casa Perché Ma perché Viste che Mi soggiano Quindi No Mi dissocio Twitch Io mi dissocio Da quello che ha detto Possono venire Sia le ragazze Che i ragazzi C'è il covid Cioè io non faccio di casa Di senso Veramente Io Qui Mi Mi Dissocio Completamente Anzi Io non faccio più la differenza Questo lato Ma faccio vedere in questo modo Questo lato qui Che io sto indicando Questo Metti pure me Metti pure me No no La parte superiore È superiore In tutti Questo Tutto questo Cioè Solo l'angolo destro Non si dissocia Vai su Si infettere tutti Così vinciamo contro gli ate No in realtà Penso che siamo Iadi hanno fatto gli anticorpi Quindi non ce l'hanno Più meno a tutti Siamo all'antico A parte che stiamo perdendo pezze Della stessa sinistra Scia li fai Scia li fai Benvenuto Benvenuto o benvenuta A seconda di come ti senti Può essere anche Esatto Stavo aspettando Non lo so A seconda di Chi te lo chiede Perché qua siamo in uno streaming Non corretto Non fa niente Benvenuto o benvenuta Chiaramente Pensavo volessi continuare Prima che ci andiamo Dimmi Raccontaci Degli aneddoti di PG Che noi non sappiamo Che magari Qualcosa che è accaduto in regia Qualche racconto divertente Voglio sapere Capito Prima di questo Io vorrei effettivamente Rinnovare l'invito Susi Se lei Quando è querita Ha voglia di venire ospite Per me Secondo me Possiamo farlo tranquillamente Certo Grazie Susi Facci sapere tu Quando è che puoi venire Liberissimo Allora Se i gg sports te lo permettono Perché poi sai Sì sai la concorrenza Quella roba là Esatto Posso parlare anche solo Anche di Rainbow Six Siege O di Rainbow O di LOL Quastasicosa Tipo che ne so Un giorno devo andare a lavoro Voi lo sapevate che noi Durante il major di agosto Siamo rimasti a giocare A ping pong E a calcio balilla Fino alle 5 di notte Perché? Ci divertiamo tutti insieme Noi finivamo la diretta Alle 3 di notte E fino alle 5 giocavamo A calcio balilla E a ping pong Io non vedo l'ora Di giocare Tu vuoi giocare a ping pong Con l'abbaccio destro Fra parentesi Io e Chinook Abbiamo vinto Contro Raki e Lorcianka Invece a ping pong Sono forti Marco Scalfone Disfact Che è ormai diventato Di LOL Prima era Pensa Prima era su Rainbow Six Poi l'hanno spostato a LOL E di Rainbow Gli interessa il giusto Scherzo Marco Scalfone Voi vi siete presi Diego Però Ho già visto Questo Questo caster Sul LOL Non è un caster Marco Scalfone Il regista Ah ok Mi fai solo dire Ma che non conosco E invece Quello che c'è ora Che è Davide Bosizio E anche lui forte Su ping pong E noi abbiamo Sempre regia Sempre regia Questo qui Altre cose Che ti posso dire Tipo che ne so Un giorno Se mi mette lavoro La regia è caduta Ed è morta Ma basta Ma perché Devi diste cose Ma può succedere Che ne sai Qualcosa di divertente Che l'amore Ah che divertente Guarda che meraviglia Spaccati una gamba A un certo punto Sto pensando Altre cose divertenti Ma noi non siamo divertenti Divertente Non è nemmeno Giovannetti divertente Ma come no No Giovannetti È troppo serio A parentesi Sono pronto a giocare A calcioparilla Quando volete Artan e Susi Tanto vi apre Il Baugigi Come dicono a Livorno Ma io a calcioparilla Ci posso giocare Non lo so Vischio No secondo me sì Ah dici che work La mano Se sto basso sì È ping pong Il problema Però a biliardo Così A tutti Allora Altra cosa divertente Questa la posso raccontare Bara Becep c'è Bara Cioè il bilardino a casa Non vale Guarda quanto è rinco Becep c'è Bara Voi dovete sapere che una volta Deve sapere che A Rimba abbiamo iniziato A fare le pause Ovviamente corte Corte della serie Che durano un minuto e mezzo E torniamo subito nei cast Non c'è l'anis desk No No Andiamo all'anis desk Mo ho detto Stiamo mangiando Un pezzo di focaccia Che è buona Ma è tante Se non sapete cosa intendo Dovete vedere I bloopers Di quindicesimo round Da dov'è questa focaccia però Del pizzaiolo È una normale pizza Con la mozzarella E con Pumodoro chiedo scusa Sì E fai conto Che a un certo punto Io stavo entrando Col cibo in bocca E ho iniziato E ho iniziato Jody a fare da solo L'entrata Perché io stavo ancora mangiando Io l'ho già fatto Una quindicina di volte Mi danno fastidio Questi qua Che Arrivano In ritardo Mentre mangiano Sti casta del cazzo È licenziato Ho stato ancora giù Io ho fatto tutto Tutto lo sprig split In cui Lui mangiava Lui semplicemente fa Fai con le patatine dietro Così mangia tutto Stavamo distruggendo Anche Io non credo a questa cosa Ci sono delle prove Perché secondo me non Sì Ci sono le prove Io no Ci sono tutte Quelle che vuoi Non ricordo Ti sbaglio Basta andare a vedere I vod Eh sì Non ne ho idea Io andrei a controllare Veramente Ancora mi sogno Quell'ultima Ma di che state parlando Ah della Ok Staff Rumble Scusate Ti è mai capitato Ad esempio Io so che ovviamente Ci scherzo Abbiamo fatto anche Qualche gag prima Però ad esempio Voi ovviamente Durante il cast Avete Una parata tranquilla Non ci sono parolacce Sfotto troppo pesanti Ti è mai capitato Di Che so A un certo punto Star per dire Una parolaccia E bloccato All'ultimo momento Ne parlerò fuori camera Perché ci sono Uno o due momenti In cui Ok Puntini 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 Ok ok Poi me li devi raccontare Anche perché siamo In ritardo Le dieci minuti Sulla chiusura Ok Sanna Mombria No perché così Dovere che siamo seduti Vi scriviamo Della gamba A posto No Ma l'aveva diverso Tranquillo Non te l'ho detto Però Stanno su due ore Che sta con la gamba Assolutamente Sennò poi non si alza Quindi Quindi E Etrurian Visto che sei stato Lost Di questa puntata Il mattatore Lascio a te La chiusura A questo punto Tutto di rito E i ringraziamenti vari Fai pure Vogliamo Perfetto Oh Anche direttamente Regia Ti amo Quoricina a te Ti vedo Allora Ringraziamo naturalmente Di Ogiamo Per essere stato nostro ospite Ringrazio La regia di Atleta TV Per essere stata qui presente Ad aiutarci In tutto e per tutto Sono sempre gentilissimi Un saluto alla regia Che è Un uomo vero Anche quello che c'era prima Ma sfortunatamente Ora è andato A chiesti il cambio No Poi Voglio ringraziare Come ho detto prima Di Ojemo Voglio ringraziare Anche gli altri ospiti Cioè Revilvage E Vischio Che sono stati qui presenti Alla puntata di oggi Da parte nostra E tutto l'appuntamento Mi raccomando Come ogni settimana Iniziamo dal lunedì Al venerdì Con tutti i nostri appuntamenti Riguardante Lo sport tradizionale Le MMA Le moto Le notizie sportive E anche I sportive Vi ricordo Quindi siate sempre presenti Cliccate sul tasto follow Seguite il canale Mettete anche la campanella Per essere sempre Presenti Quando noi andiamo live Qui su Atleta TV L'appuntamento È proprio Tranne me Perché io non ci sarò Sfortunatamente Però sarò presente in live In chat Per raccontarvi Di quanto Revilvage Sia un caster Meraviglioso Buon saluto a tutti Buono E buone volte E soprattutto Come sempre Buon esports A tutti Non ce la fatevi parlare Dicevo Sennò Un cds Ciao